Buongiorno a tutti. Tocca a me, a nome del circolo De Amicis, ringraziare la Presidenta. Tocca a me, a nome del consiglio direttivo del De Amicis, del circolo De Amicis, salutare Libertà è uguale, mandare un saluto a Roberto Vitali e salutare tutti i presenti. È un'occasione importante per Libertà è uguale, per noi è un'occasione per fare una sorta di vernissage perché abbiamo alle spalle un periodo molto difficile che stiamo cercando di superare e il circolo ha riaperto le porte, le finestre un po' meno, ma comunque le porte agli eventi e quindi è importante che questa sala sia riempita non solo dalle persone che saluto ma dal dibattito che è particolarmente importante in questo momento. È un momento in cui siamo assediati dalle isterie populiste e quindi è importante un appuntamento in cui si aprono le riflessioni a cui Libertà è uguale è molto avvezza, ha regalato a tutti noi riflessioni importanti. Io ovviamente auguro a Libertà è uguale che naturalmente frequento e quindi seguirò in maniera, con la mia presenza, il fatto che mantenga le promesse che finora ha mantenuto e quindi fatto questo saluto auguro buon lavoro ai lavori di oggi e ai lavori futuri che tutti gli appuntamenti che noi sappiamo al momento avranno luogo. Buon lavoro e saluto a tutti quelli che sono qui presenti, a Michele Salvati, a Morando, a Piero Fassino e passo la parola al Presidente, cioè a Filippo Barberesi. Grazie. Grazie davvero al Circolo dei Amicis che ci ospita in questo bellissimo spazio, in un periodo dove sta aumentando l'intensità di organizzazione di eventi e di riflessioni politiche e culturali. infatti mi è capitato di essere qua due settimane fa, sarò qua settimana prossima, quindi c'è un'intensità di attività molto positiva e che fa onore alla tradizione, alla storia di questo luogo. Ringrazio le tre associazioni che hanno proposto e contribuito ad organizzare l'incontro, Libertà è uguale, Milano-Lombardia, i circoli d'ossetti, iniziativa democratica. Saluto anch'io con affetto Roberto Vitali che non può essere qui e ringrazio di cuore Erminio Quartiani che con Roberto Vitali sono gli animatori storici e presenti di libertà uguale e ostinati organizzatori di iniziative e di eventi culturali che, vedendo anche la partecipazione di oggi, evidentemente occupano uno spazio e una dimensione della riflessione politica che non è così frequentata e che invece è importante coltivare. Infatti oggi non sarà semplicemente una carrellata di interventi, ma l'idea è quella di riuscire a prendere il tempo necessario per dispiegare alcune riflessioni che seguono poi la struttura di alcuni pilastri fondamentali su cui si sta concentrando, cimentando l'azione politica a livello europeo. Un'Unione europea che ha acquisito una centralità che va al di là della contingenza del periodo preelettorale che stiamo attraversando e, come spesso mi capita di dire con gli amici del Movimento Federalista Europeo, che tra l'altro sono anche qua presenti oggi in sala e che saluto, ha sempre più la dimensione non dell'opportunità ma della necessità e dell'urgenza. Necessità ormai innegabile, inaggirabile. Ci si trova magari di fronte a dibattiti che erano stati sospesi nella loro risoluzione per decenni come l'idea di riformare il patto di stabilità o di superare i meccanismi e gli strumenti per un debito comune dove il dibattito graduale del procedere dell'integrazione europea poi si trova davanti a delle emergenze, in questo caso sanitaria come il Covid, e ci si trova davanti all'opportunità di fare un balzo in avanti e adesso davanti al pericolo di non perdere questa opportunità di balzo in avanti. Ci si trova davanti a delle sfide di politica internazionale, naturalmente il pensiero va subito al conflitto russo-ucraino, che interrogano con ancora più urgenza su un tema che in realtà fa parte del dibattito politico europeo almeno dalla seconda metà degli anni 50 come la necessità di costruire una difesa comune europea che dia anche un peso geopolitico e non solo finanziario e militare all'Unione davanti ad eventi di questo tipo. Ci si trova davanti a potenze enormi come Cina e Stati Uniti, enormi rispetto ai singoli stati membri degli stati europei, ma non rispetto all'Unione europea, che sono purtroppo già molto più avanti di noi nell'affrontare le grandi sfide della rivoluzione tecnologica che non è confinata all'ambito tecnologico, ma è qualcosa che ha un impatto diretto sul prodotto interno lordo degli stati che sono in grado di affrontarla con anticipo, sulla produttività e quindi anche poi su quel benessere e quella forza dello Stato nell'assistere la persona e il cittadino che non vogliamo sia solo un vanto storico dell'Unione europea, ma che abbia anche una prospettiva nei prossimi decenni. Quindi quando parliamo di tecnologia parliamo di lavoro, di produttività, di creazione di ricchezza, di redistribuzione, non è che parliamo solo di un settore dell'economia, di un settore fondamentale anche qua impensabile da affrontare individualmente come Stati europei. Ho citato diversi temi che naturalmente riprenderemo in maniera più estesa con gli interventi dei relatori che sono qui oggi e che ringrazio a partire da Piero Fassino e che anche da poco ha avuto un incarico proprio sul fronte, non l'ho ancora toccato, del Medio Oriente in seno al Consiglio d'Europa. Patrizia Toia, europarlamentare e una presenza che nell'Europarlamento ha avuto sempre un'attenzione sul merito anche delle grandi politiche economiche e industriali. Ho in mente anche una riflessione recente di Patrizia, poi magari su questo torneremo. Giulia Pastorella che è, oltre che mia collega in Consiglio Comunale parlamentare per azione e vicepresidente a livello nazionale di azione e da sempre attenta ai temi dello sviluppo economico, dell'innovazione tecnologica. Maurizio Ferrera, ordinario di scienze politiche e studioso osservatore pluridecennale delle politiche sociali e pubbliche, non solo sulla dimensione nazionale ma europea. Gli ho confessato prima di essere stato un suo ex studente di dottorato e quindi so bene il dipartimento che insieme a Pietro Ichino, Marino Regini e molti altri docenti, anche Marco naturalmente, Leonardo e Michele Salvati che è una delle persone per cui mi ero anche cimentato in quel dottorato, portano avanti questi studi di dimensione sovranazionale a scienze politiche qua a Milano. Mi taccio e come da tradizione cominciamo con Piero Fassino a cui chiedo uno sguardo sulle politiche più internazionali e di difesa che l'Italia e l'Unione stanno affrontando, di cui lungamente si è occupato e si sta occupando e a cui chiedo una riflessione aggiornata. Grazie. Va bene, grazie. Grazie di questo invito. Io, come è stato appena detto, farò un inquadramento generale perché poi, come sappiamo, nel programma sono previste una serie di relazioni specifiche che approfondiranno i vari temi e quindi è giusto che l'inquadramento abbia questo carattere di ordine generale. Parto naturalmente dall'importanza del voto europeo di giugno, oggi è il 9 marzo, mancano poco più di due mesi, tre mesi scusate, tre mesi, quindi siamo ormai all'inizio di un cammino elettorale importantissimo. Perché le elezioni europee per la prima volta sono una cosa diversa da tutti i passaggi elettorali europei precedenti. Tutte le elezioni che noi abbiamo avuto nel Parlamento europeo si svolgevano in un contesto nel quale tutte le forze politiche, di centro, di destra e di sinistra, si dichiaravano europeiste. Non era in discussione il fatto che l'Unione europea e l'integrazione europea fosse una scelta strategica fondamentale. In fondo le elezioni europee erano in ogni paese nelle elezioni di medio termine tra un'elezione politica nazionale e l'altra per misurare i rapporti di forza tra le forze politiche. Servivano un po' a questo. Poi certo si votava per il Parlamento europeo ma non era in discussione il fatto che l'Europa ci fosse e ci volesse. Oggi non è così. Oggi noi andiamo a un voto nel quale ci sono forze politiche che chiederanno un voto contro l'Unione europea non solo di chi è euroscettico ma di chi è anti-europeo. Domani si svolgono elezioni nazionali in Portogallo, tutti i sondaggi registrano che un partito populista di destra che si chiama Scega, che vuol dire basta, è accreditato tra il 15 e il 18%. Poi speriamo che si siano sbagliati i sondaggi ma è la dimostrazione. Abbiamo in Germania l'AFD, il partito dichiaratamente di ispirazione filonazista e il quale è il secondo partito nei sondaggi e nei land dell'est è il primo con il 30% dei consensi. In Francia i sondaggi dicono che la Le Pen, se si votasse oggi poi vedremo, avrebbe 10 punti di più della coalizione di governo guidata da Macron. In Italia sappiamo chi governa questo paese, in Olanda si è votato qualche settimana fa, abbiamo visto com'è andata, quindi noi siamo di fronte a un passaggio molto delicato in cui noi possiamo trovarci, troveremo sicuramente con una rappresentanza parlamentare populista più forte di quella di oggi. Fino al rischio, che per ora è solo un rischio e speriamo non si realizzi, che quelle forze diventino determinanti per una maggioranza in Parlamento. Per ora questo rischio sembra che non si realizzi, almeno sulla base degli ultimi sondaggi europei, però sapete, poi vedremo. E comunque una presenza parlamentare più forte delle forze antipopuliste, quando anche non fossero determinanti per una maggioranza, avrebbero un peso molto forte di condizionamento. Vi faccio un esempio di questo condizionamento, io ho letto l'altro giorno il manifesto europeo del Partito Popolare Europeo, il quale sull'immigrazione sposa la linea Meloni, e cioè esternalizzare gli immigrati bisogna collocarli fuori del territorio dell'Unione Europea, eccetera, eccetera. È un segnale di come le posizioni di destra possono incidere anche sulle forze europeiste spostandole nei contenuti. politici. Quindi è un voto particolarmente delicato, in cui per la prima volta si vota per l'Europa. Cioè se deve continuare a esserci un'Unione Europea e una politica di integrazione oppure no. Secondo punto, proprio perché il voto ha questo carattere, io credo che dobbiamo essere consapevoli che l'Europa è di fronte alla necessità di un salto nelle sue politiche di integrazione. In fondo possiamo dirci, adesso per essere breve vado schematicamente, possiamo dirci che per un lungo periodo, tra il 1957 e fino all'inizio almeno degli anni 90, il cambio di secolo, l'Unione Europea e l'Europa ha potuto costruire la sua integrazione in un modo autarchico. Cosa voglio dire? Voglio dire che per lungo periodo la Cina non c'era, i paesi emergenti non c'erano. Era un mondo, come è stato per lungo periodo, caratterizzato da una centralità assoluta dell'Occidente, del campo euroamericano e l'Unione Europea poteva costruire la sua integrazione perché non aveva sfide esterne che la sollecitassero più di tanto. Oggi non è così. Viviamo in un mondo globale in cui l'Europa deve fare i conti con la Cina, un miliardo 300 milioni di persone, con l'India, un miliardo di persone, con paesi emergenti che stanno diventando anch'essi delle potenze regionali. Penso la Turchia, penso al Sudafrica, penso al Messico, penso al Vietnam e potremo continuare nella enunciazione dei paesi. Le dinamiche demografiche vanno in questa direzione. Oggi in Africa vive un miliardo 200-300 milioni di persone con le attuali dinamiche di natalità che possono cambiare ma non più di tanto perché dinamiche di natalità non cambiano in due minuti. Alla fine del secolo l'Africa avrà tra 3 miliardi e 8 e 4 miliardi di abitanti. La Nigeria sarà il terzo paese più popoloso del mondo davanti agli Stati Uniti. È il mondo dentro il quale noi ormai siamo chiamati a vivere. Non di più. La crisi russo-ucraina ha determinato un mutamento radicale dello scenario internazionale con un'incidenza nei confronti dell'Europa di non poco conto. Non solo perché quella guerra ci coinvolge, nel senso che sosteniamo l'Ucraina con molta convinzione, ma è cambiato lo scenario. In fondo l'Europa per un lungo periodo ha vissuto garantita da tre ombrelli. Gli Stati Uniti garantivano la sicurezza, la Russia ci dava l'energia e i paesi emergenti ci davano i mercati. Gli Stati Uniti non sono più disposti a garantire da soli la sicurezza, come tutti sappiamo. E comunque il problema della sicurezza europea è un problema degli europei, non è soltanto un problema degli americani. La Russia l'energia non ce la dà più per ovvie ragioni, anche se andiamo a cercarla altrove e la troviamo altrove. E i paesi terzi non sono più disposti solo a ricevere investimenti, ma diventano produttori e quindi attori del mercato e competitori. Quindi l'Europa è di fronte alla necessità di un salto. La politica di integrazione realizzata fin qui è importantissima. Siamo l'area del mondo che ha realizzato i più avanzati processi di integrazione. In nessun altro continente si sono realizzati i livelli di integrazione che ha realizzato l'Unione Europea, però non sono più da soli sufficienti. Abbiamo la moneta unica e il mercato unico, ma non abbiamo ancora una politica economica europea. Abbiamo Schengen, importante, esposta come avete visto in questi ultimi mesi però a rischi, ma è l'inizio di una cittadinanza europea. Perché ci sia una cittadinanza europea bisogna fare molti passi in avanti. Ci siamo dati una politica estera europea, ne parlerò tra poco, che però stenta ad affermarsi come tale. Stiamo affrontando adesso il tema della sicurezza e della difesa europea che per lungo periodo l'Europa non aveva affrontato, anzi l'aveva escluso dalle competenze dell'Unione. Sul piano finanziario avvertiamo sempre più la necessità che non ci basta soltanto quello che abbiamo fatto fin qui, ma serve un'unione bancaria. Se vuoi realizzare la politica di trasformazione e di transizione energetica non ti puoi affidare solo alle politiche di ogni singolo paese, devi costruire un'unione energetica e avanti di questo passo. Cioè abbiamo bisogno di un salto perché è l'unico modo per stare dentro un mondo globale. Quando devi fare i conti appunto con un mondo grande la tua dimensione piccola non ti basta. E non c'è nessun paese europeo che da solo, neanche la Germania, che da solo è in grado di stare dentro un mondo globale. Mentre un'Europa di 500 milioni di abitanti che metta a fattore comune il suo potenziale finanziario, economico, culturale, sociale, politico, diventa un attore del mondo globale che può stare alla pari con gli altri grandi attori e quindi avere un'influenza e incidere e non subire. E poi questo è il punto. Quindi noi abbiamo bisogno di un salto. Come in tante altre occasioni, uso una metafora che a sinistra si è usata in un certo periodo molto. L'Europa è a metà del guado. Le sue politiche di integrazione hanno realizzato molti traguardi garantendo ai cittadini sviluppi e progressi notevoli. Senza il mercato unico comune realizzato fin dal 57, il boom economico degli anni 60 all'Italia non ce l'avrebbe avuto, tanto per fare un esempio dei vantaggi che ha dato il processo di integrazione. l'Europa ha realizzato una politica di integrazione molto avanzata, non basta più. Non siamo arrivati al traguardo, siamo a mezz'ora del guado. Abbiamo bisogno di proseguire facendo crescere il livello di integrazione in tutti i vari pilastri e in tutte le varie politiche. Faccio pochi esempi. Politica migratoria. È del tutto evidente che la politica migratoria non può essere gestita da ogni paese da solo, anzi, lasciata a ogni paese produce conflitti e contraddizioni, come abbiamo visto, anche all'interno dell'Unione Europea e non consente a nessun paese di risolverlo. Io sono stato in Francia in questi giorni per le mie riunioni e il tema migratorio è un tema centrale in Francia, con la destra all'attacco esattamente come in Italia, con le paure che ci sono nell'opinione pubblica è esattamente come da noi. Quindi se non c'è una politica europea, il tema migratorio diventa più difficile da gestire. Trasformazione ecologica. Tu vuoi fare una politica di tutela ambientale che contrasti il climate change, come è noto nel cielo le frontiere non ci sono, le nuvole girano, quindi vuoi una politica europea? Solo la somma delle singole politiche nazionali non ti dà l'efficacia che ti può dare una politica europea. Politica sociale, ne parlerà Ferrera che è uno dei principali autori di tutto ciò che l'Europa sta dicendo sulla politica sociale dal vertice di Copenaghen in avanti, di Malmo in avanti. Se noi non ci diamo una politica sociale, le singole politiche sociali non hanno la stessa efficacia nel contrasto alle povertà, alle ingiustizie e alle differenze. E anzi si apre. Politica industriale e politica fiscale. Quante volte noi abbiamo dovuto fare i conti in questi anni con una competizione fiscale all'interno dell'Unione Europea? Quando la Whirlpool, piuttosto che un'altra azienda, decide di andare via dall'Italia non per andare in Cina ma per andare in Slovacchia, membro dell'Unione Europea, lo fa perché lì ritrova un sistema fiscale più vantaggioso. Se non vai verso un'armonizzazione fiscale è evidente che lì c'è un pumbaco, c'è un punto di debolezza. Quindi per finire, per fare l'ultimo esempio, la politica estera. Attendiamoci, politica estera e politica di difesa è una materia sensibilissima, è la materia su cui le nazioni sono più sensibili e più gelose, ovviamente. Però ormai abbiamo visto di fronte a tanti dossier critici, pigliamone uno che ci ha interessato da vicino, la Libia, che se ogni paese europeo su una crisi come quella libica pretende di parlare con la propria voce senza avere una strategia europea, l'efficacia è assolutamente nulla. La situazione di Libia continua a essere complicata ma ha cominciato a essere un po' meno complicata quando il ministro degli esteri italiano, francese e tedesco sono andati insieme a Tripoli e hanno detto le stesse cose. E da quel momento in poi Borrell, il ministro degli esteri europei, ha potuto parlare, ma fino a che i tre principali paesi avevano lingue diverse, il ministro europeo cosa doveva dire? A nome di chi parlava. Quindi noi abbiamo bisogno, come vedete, di un salto, un salto che faccia crescere i livelli di integrazione, esattamente il contrario di quello che propone la destra, perché la destra propone la riduzione dei processi di integrazione e in alcuni campi addirittura il suo annullamento. Cioè la linea della Meloni è dall'Europa prendo quello che mi piace e mi serve, non mi assumo nessuna responsabilità, cioè il senso della politica della destra. E quindi mi servono i soldi di Next Generation EU? Li prendo. Ma sia ben chiaro, non mi faccio carico invece di una politica di migrazione migratoria comune, di una politica sociale comune, di una politica industriale comune, no? Cioè l'Europa minima, senza la quale proprio non puoi vivere, mentre noi abbiamo bisogno dell'Europa massima necessaria, quella che serve ad affrontare i problemi. Naturalmente per fare questo l'Europa deve darsi anche un assetto istituzionale, poi ne parleranno anche altri, e fare delle riforme che la mettano nelle condizioni. Per esempio per stare al tema della politica estera e di difesa comune, se si deve decidere tutto all'unanimità, in realtà il voto all'unanimità consegna a un solo Paese il diritto di veto. E quindi hai bisogno di cambiare quella regola. Ovviamente in un'unione di 27 Paesi non puoi pretendere di decidere al 51%, dovrei fare una maggioranza qualificata, ma una maggioranza che possa decidere. L'Europa ha uno strumento che ha già usato e deve continuare a usare le cosiddette cooperazioni rafforzate. Cosa sono? Sono uno strumento con cui se non si riesce a essere d'accordo in 27, quelli che sono d'accordo possono procedere in una politica comune lasciando aperta la porta a chi non l'ha aderito di aderire successivamente. E io credo che questo sia uno strumento che dobbiamo rafforzare, perché se no ogni volta sei paralizzato. E si potrebbe continuare. Tutto questo ci conduce a un tema. E finisco. È il tema che anche l'Europa è campo di battaglia politica. Il fatto che per lungo periodo tutti fossero europei e, anche se c'è una differenza tra le due parole, ma è passato, e tutti si dichiarassero europeisti, ha fatto sì che ci fosse quasi come dire una lettura neutrale. C'è battaglia politica in Italia, in Francia, in Germania, ma in Europa siamo tutti d'accordo. Oggi non è così. Oggi non è così. Oggi c'è un tema di battaglia politica tra chi crede nell'Europa e chi non ci crede, chi la vuole e chi non la vuole. E quindi il ruolo delle forze progressiste, dai socialisti, ai verdi, ai liberal democratici, a quei settori, perché nel Partito Popolare c'è una dialettica, a quei settori del Partito Popolare che sono più europeisti, hanno il compito e il dovere di mettere in campo una battaglia politica. E quindi il tema del rapporto con la nostra opinione pubblica, visto che stiamo andando alle elezioni, e di come conduciamo una campagna naturale rendendo chiaro il senso della sfida, è decisivo. Perché anche, ma per tante altre ragioni, ma anche in virtù di un indifferenziato europeismo, questo ha fatto sì che nelle ultime elezioni europee una parte di elettorato abbia considerato che poi non era così importante andare a votare. Siamo tutti per l'Europa, sì vado a votare, ma se anche non ci vado io non cambia nulla. Oggi non è così. Oggi siamo di fronte a una scelta molto radicale e quindi noi dobbiamo renderla evidente all'opinione pubblica per sollecitare tutti coloro che comprendono che l'Europa è necessaria ad esserci e quindi a fare delle elezioni europee davvero un passaggio elettorale importante per rilanciare il processo di integrazione. Qui mi fermo perché adesso ci sono molti contributi specifici che saranno molto più ricchi di quello che vi ho detto io. Grazie. Grazie Piero. Invito Enrico Morando a unirsi al tavolo dei relatori a cui darò la parola dopo l'intervento di Patrizia. Ci sono, no, ma il palco è abbastanza ampio. Grazie Enrico. Patrizia, appunto, Piero ci ha restituito uno sguardo ampio su quelle che sono un po' le principali sfide dell'Unione Europea. Ti chiederei di approfondire questo sguardo in particolare su due aspetti, ovvero il collegamento che c'è tra la necessità di organizzare e molto concretamente finanziare delle politiche industriali che accompagnino in particolare la transizione ambientale, energetica e digitale e dall'altro l'esigenza di avere delle riforme istituzionali che siano all'altezza di questa accelerazione di politiche. Avendo tu seguito entrambi questi aspetti ti chiedo proprio su questo una riflessione. Sì, vi ringrazio. Mi alzo in piedi semplicemente perché mi è più semplice esprimermi. Voglio anche io ringraziare moltissimo Libertà è uguale e se mi permettete anche quartiani perché se non ci fosse lui a tenere le fila, a chiamare, a ricordare, forse non potremmo trovarci ed esprimere così i nostri pensieri, fare dei confronti come facciamo oggi. Penso che Fasino abbia già molto opportunamente inquadrato il tema che, guardate, da qualunque punto di vista lo prendi, dalla politica estera, dalla politica industriale, dalla politica sociale ti riconduce a un nodo. È capace l'Europa di fare le cose che ci aspettiamo, che chiediamo l'Europa faccia? Cioè è capace nel senso ha le competenze, ha la forza, ha gli assetti istituzionali e tutto quello che ne deriva? O altrimenti abbiamo un'Europa configurata in un certo modo e poi chiediamo cose che vanno al di là delle capacità degli strumenti che le abbiamo date. Io mi trovo a volte in ambienti economici a parlare appunto del fondo sovrano per l'industria e poi portarli al tema istituzionale che non è un'altra cosa perché se non si risolve quello ed è veniva fuori chiarissimo dalla spiegazione che ha fatto Fasino illustrando sempre aspetti anche specifici ma ritornando al tema che noi dobbiamo completarla questa Europa. E allora le elezioni perché sono ulteriormente importanti oltre che per tutte le cose che sono state dette? Perché senza una diciamo una legittimazione democratica, senza un'investitura che venga dal basso, nessuna classe politica avrà la forza e la tenacia per portare avanti queste riforme se non sente di avere dietro una parte almeno dell'opinione pubblica, un mandato in questo senso. Quindi sono elezioni nelle quali auspicabilmente se riusciamo a parlare, a spiegare, a sollecitare, prima di tutto a far conoscere l'Europa un po' meglio di come normalmente è conosciuta e poi a sollecitare questo senso di una cittadinanza, questa consapevolezza che il nostro destino nazionale è incrociato, intrecciato a quello europeo. Quindi non dovremo parlare solo d'Italia, dovremo parlare d'Europa per capire anche qual è poi la sorte dell'Italia che è la stessa cosa per certi versi. Quindi penso che dovremmo davvero avere un mandato e chi voterà determinati partiti, vorrà dire che voterà un certo modello d'Europa, vorrà dire che si aspetterà da quella classe dirigente che uscirà dal rinnovo delle istituzioni una forza per questo completamento che richiede molto coraggio, richiede sciogliere molti nodi, richiede di fare delle scelte anche coraggiose perché vuol dire assestare un po' le differenze tra la sovranità europea e quella nazionale, capire che si giocano là molte cose e quindi non sentirsi espropriati delle nostre competenze, ma capire che le portiamo a livello giusto dove potremo avere le risposte che ci servono. Quindi io penso che il nodo istituzionale, raccontato con la chiarezza anche degli esempi, non in modo astratto come un disegno solo giuridico di assetti costituzionali, è veramente centrale. Le premesse, guardate, ci sono, perché i passaggi sono stati fatti. È stata fatta una conferenza, che non è un atto di un giorno, è come un processo lungo che ha voluto Sassoli, che purtroppo si è scontrata col Covid, si è scontrata con l'indifferenza anche dei nostri giornali, della stampa, della televisione, con una certa inerzia anche del governo italiano che poteva motivarla di più. In quell'assetto, in quella conferenza, un pezzo di deputati italiani, un pezzo di deputati europei, io sono stata delegata in questo gruppetto che ha partecipato, i panel dei cittadini, cioè con una partecipazione, scelti con tutta una metodologia statistica in modo che rappresentassero per età, per studi, per sesso, per tutto, un po' una composizione significativa della popolazione europea, hanno lavorato e alla fine ci siamo trovati nell'aula di Strasburgo seduti a fianco a fianco, a fianco a me, non c'era il mio collega che di solito c'è parlamentare, c'era un cittadino, non mi ricordo più di che paese, perché più volte ci siamo riuniti, che era, e alla fine la voce dei cittadini, le loro proposte, se non avevano anche il nostro consenso, prevaleva la loro ipotesi e loro hanno fatto tutta una serie di deliberazioni che il Parlamento ha approvato, che successivamente la Commissione Affari Costituzionali del Parlamento e bla bla, tutti i passaggi, siamo arrivati a deliberare lo scorso Natale, insomma lo scorso anno, quelli che sono il mandato del Parlamento che ha chiesto chiaramente al Consiglio, alla Commissione, a chi dovere, di attivare quello che diceva Fassino, quell'articolo del Trattato che permette di aprire una convenzione, cioè un luogo, una procedura per fare queste benedette riforme dei trattati che poi potranno essere molto avanzate o diciamo il minimo indispensabile, superamento dell'unanimità, la potestà legislativa al Parlamento che oggi non ha potere di iniziativa legislativa, anche se è legislatore assieme al Consiglio, cose che ogni tanto si dimenticano, tanti, e quindi insomma avviare un assetto di maggiori competenze, il completamento dell'unione dell'energia, l'avvio dell'unione della salute, cioè alcune competenze portate lì e una forza maggiore appunto per essere in grado di fare le cose che i cittadini chiedono. Qualche volte sentiamo dire, accanto è colpa dell'Europa, anche l'altra, l'Europa dovrebbe fare, ma come può se non ha le competenze? Come può se quando tenta gli stati la fermano? Come può il povero Borre che veniva evocato dire qualcosa di significativo sulla politica estera quando attorno a lui non ci sono gli stati membri che di fatto hanno la reale competenza? Lui può fare oggi solo un po' una sintesi, un coordinamento, uno stimolo, ma non ha una voce responsabile in prima persona perché non gli è stata conferita. Quindi vedete, siamo intorno a un tema che non è astratto, non è dei professori di diritto o delle menti diciamo che si occupano di questo, è di noi cittadini che abbiamo bisogno di avere un'Europa adeguata per le competenze. Un'altra brevissima cosa su questo aspetto un po' istituzionale che richiede. Perché c'è bisogno oggi? Lo diceva Fassino, per molto tempo l'integrazione è un po' andata avanti così senza avere questa grandissima urgenza. Si gestiva il necessario con le competenze che man mano si aggiustavano. L'Europa non aveva competenza sull'energia, non aveva le basi legali. Quando sono cominciate un po' di anni fa le prime difficoltà di arrivo del gas dalla Russia per situazioni di conflitto locale, il Consiglio ha cominciato a preoccuparsi, gli stati hanno detto alla Commissione prepara qualcosa. È nata così il primo avvio della politica energetica europea e oggi diventa centrale come lo era all'inizio della formazione della nascita dell'Europa. Ma non c'era una base legale, ma la necessità e i problemi hanno imposto di avviare una certa politica energetica che poi si è sviluppata tantissimo e voi avete visto dopo la guerra è stata determinante perché l'Europa è stata capace di affrontare quella crisi che poteva mettere in discussione lo stesso approvvigionamento energetico. Noi l'altro inverno, non questo, l'altro inverno, prima dell'altro inverno, siamo trovati a fare d'urgenza dei provvedimenti per riempimento degli stoccaggi eccetera, perché l'ipotesi poteva essere la prospettiva che noi non avessimo energia nell'azienda, nelle nostre case, che fossimo bloccati diciamo dalla mancanza proprio di energia. Quindi insomma le cose sono andate avanti in un certo modo. Perché oggi c'è questa urgenza? Per le cose che sono state già ampiamente illustrate. Ma anche perché in aggiunta, guardate, in questi cinque anni l'Europa nell'emergenza, nell'imprevedibilità delle crisi che ci sono state drammatiche, il Covid, l'interruzione in tutte le attività, pensate cosa non ha voluto dire per mille aspetti, l'invasione della Russia in Ucraina, la guerra, tutto quello che è successo. L'Europa è stata capace di rispondere, non dimentichiamocelo, è stata capace di fronte a eventi imprevedibili e gravissimi di trovare risposte straordinarie, coraggiose e innovative. Ha fatto cose che non stavano nelle regole normali. Mai si poteva pensare di fare un debito comune europeo, emettendo titoli di cui l'Europa si fa garante. Queste cose le diceva Prodi, le diceva Quadrocursio, nei convegni, gli Eurobond, ma rimanevano lì. Stavolta da vent'anni, ma mai applicate? Sono state applicate. Col Covid, con i vaccini si sono fatti gli acquisti comuni, quando mai? Evitando quella competizione tra gli stati che diceva Fassino, per cui qualcuno sarebbe andato a comprarsi i vaccini con prezzi che voi potete immaginare. Sul gas stiamo cercando di fare acquisti comuni, con molte difficoltà dei grandi acquirenti di gas all'ingrosso, insomma, delle varie società, ma comunque si sta cercando. Quindi si sono fatte cose straordinarie nella difficoltà. Ma noi possiamo avere un'Europa che risponde solo nel momento della difficoltà con strumenti straordinari e quando la straordinarietà o finisce o continua, come quella della guerra, si chiede come fare ad andare avanti. Allora, quando si tratta di vedere se quegli strumenti straordinari, noi dobbiamo farli diventare ordinari, oggi c'è bisogno di un altro, forse di un altro Next Generation EU, cioè di un'altra, diciamo, emissione di titoli, di altro debito, noi non abbiamo gli strumenti per farlo e non si può vivere nell'eccezionalità, nella reazione a momenti straordinari. Ecco il punto per cui oggi queste riforme sono necessarie, perché dobbiamo introdurre nel nostro assetto una integrazione non solo in un quadro, diciamo, come si veniva definito, più stabile, in qualche modo, ma nella straordinarietà in cui siamo. Quindi oggi è necessario avere l'avviare in questo cantiere, con tutte le difficoltà, perché pensate voi, se prevarranno molto le forze o anti-europeiste, euro-scettiche o quelle del partito del basta, voi capite che questo percorso non sarà facile, ma non sarà facile neanche con la proposta che fa la destra di una confederazione. Noi qui siamo tutti federalisti oltre al movimento che c'è, ma tutti noi siamo di fatto convinti anche se facciamo meno parte del movimento federalista in quanto tale. Ma oggi sul campo c'è un'altra proposta, che la nostra Presidente del Consiglio nelle sue agitati comizi dice, che è quella della confederazione. Ci basta un'Europa che mette insieme quel tanto che serve, che poi dice sì, dice no, ma quell'Europa è inefficace, quell'Europa ci porta veramente all'insignificanza interna ed esterna, ci porta all'incapacità di affrontare le cose, perché quando c'è un nodo e non è condivisa la responsabilità, ognuno fa come vuole. Allora la Whirlpool va in Slovacchio dove diavola è andata, ma quando deve arrivare qualcuno, non solo dislocarsi qui, quando deve arrivare qualcuno da fuori, pensate all'Intel, e deve scegliere in quale paese andare per le produzioni delle cose oggi necessarie, i chips, i microelettroniche eccetera, va in Germania perché la Germania che ha una capacità di bilancio diversa dalla nostra, gli offre condizioni migliori e scatta la competizione tra gli stati. Ma questa è un'Europa, non solo per noi che crediamo alla comunità di destini, agli ideali eccetera, ma anche per chi guarda l'efficacia, non può essere un'Europa efficace che scatena la conflittualità degli stati, senza pensare a dove può arrivare questa conflittualità e qui mi fermo, perché oggi ha conflittualità economica, domani potrebbe essere anche altro. Quindi davvero dobbiamo scegliere e spiegare, non so, troveremo le parole tutti insieme, semplici e chiare per dire che oggi si gioca un destino per l'Italia dentro l'assetto che scegliamo per l'Europa fondamentale. Due parole sull'altro tema, che pure ci riporta lì. Io mi occupo molto di, diciamo, oltre che di terzo settore, dove l'Europa ha fatto, grazie al nostro commissario Schmidt, che sarà il nostro spizio in candidata, e passi da gigante avanti. Un action plan, una raccomandazione per gli stati, adesso tocca agli stati dare quello spazio al terzo settore che l'Europa per la prima volta ha configurato con degli strumenti eccetera, grazie appunto a Schmidt. Ma, scusate, guardando Ferreira ho pensato che quando ho detto le risposte straordinarie ho dimenticato Schuhard, sopra lui dire, ma ha fatto anche lì un'azione comune straordinaria, e Schmidt e Gentiloni sono stati i protagonisti. Schuhard per la disoccupazione. Dicevo, insomma, noi abbiamo bisogno appunto per queste materie di cui io sono abbastanza impegnata, oltre al terzo settore, quello della Commissione Industria ed energia. Anche qui, guardate, noi avremo un altro punto critico tra i tanti, oltre a quello che ho detto nella campagna elettorale, e sarà questo. Non potendo più la destra di governo italiano dire fuori dall'Europa, fuori dall'Euro, quelle stupidaggini per non qualificare con una parola anche peggiore che ha detto spesso, e che qualcuno di loro continua a dire, cosa dice oggi? Fuori dalle follie, dall'ideologia, le parole sono follie, ideologia e via di seguito, del Green Deal, di quest'idea di un'Europa verde, eccetera. Diranno che quello è lo spauracchio, perché dicono che abbiamo rovinato l'impresa. L'altro giorno a Torino, Piero, dagli industriali hanno chiamato tutti i deputati europei del Nord, e io ho detto, guardate, voi dovreste dici grazie, non dire che l'abbiamo rovinato. Sono pronta a dire alcuni passaggi in chiave, tu ne hai citati alcuni, per cui il mondo, anche produttività, dovrebbe dire grazie all'Europa, non dire che distruggiamo l'industria. Quindi quello sarà un tema chiave, non facciamoci suggestionare, ci hanno già suggestionato parlando delle case green, che portavamo via la casa, la patrimoniale, stupidaggini. In realtà abbiamo pensato che l'efficienza energetica forse ci aiuta a risparmiare energia in generale, magari anche risparmiare la nostra bolletta, naturalmente con gli strumenti necessari. Quindi c'è una propaganda alimentata che non ha parte del mondo imprenditoriale, non di tutti, ma che è il fuoco di fila, l'arma che ha la destra per attaccare la nostra visione d'Europa, ed è così pervasiva che lui ha citato un episodio del mandato che è andato alla, sono alla fine, del mandato che è andato alla van der Leyen per rinnovarla, facendoli smentire un sacco di cose, ma perché quella è la posizione politica del PPE, che ha già detto sull'immigrazione il contrario di quello che in qualche modo, pensate che la relatrice, assieme alla Schlein, della riforma del regolamento di Dublino, che il Parlamento aveva votato, che responsabilizzava tutti gli stati e che si è fermata poi al Consiglio, erano state la Schlein e la Mezzola dei popolari, l'attuale presidente. Quindi il PPE era su quelle posizioni. Loro avevano fatto nell'altra legislatura questa riforma del regolamento. Oggi il PPE dice, va bene il modello Ruanda, che tenta l'Inghilterra, li portiamo là in attesa di vedere se hanno il visto o no, poi il diritto ad essere rifugiati, poi stanno là per sempre. E su altre cose, sul Green Deal, glielo fanno smentire. Lei è stata, l'ha proposto in Parlamento questa grande strategia, diciamo, della transizione energetica ambientale e anche digitale, glielo hanno fatto smentire. E quindi nel programma del PPE, e questa è la lusinga che loro dicono anche al mondo economico, arriviamo noi e smontiamo tutti quei provvedimenti, il Fit for Fitify, tutte le cose che abbiamo fatto. Allora anche qui noi dobbiamo avere una risposta e una nostra narrazione, se vogliamo, una nostra strategia politica. Dobbiamo riconoscere la bontà di questo percorso, non possiamo smentire le scelte fatte. Oggi Timmermans è sotto il fuoco di fila di tutti, io che l'ho sempre criticato in Parlamento e anche al gruppo, adesso devo difendere quelle posizioni perché non è smantellando. Però dobbiamo riconoscere che dobbiamo fare alcuni aggiustamenti e completamente. Sono i tempi che dobbiamo fare, sono soprattutto le risorse e gli strumenti. Le cose che abbiamo scelto per la transizione, diciamo che il cambiamento di tutto il nostro sistema produttivo verso il raggiungimento degli obiettivi della lotta al cambiamento climatico, della decarbonizzazione dell'economia, sono positivi. Il problema è come raggiungerli, con quali strumenti, tutta l'innovazione che è necessaria. Allora puntiamo tutto, e l'Europa lo sta facendo, su una serie di interventi per favorire tutte quelle innovazioni di tecnologie ambientali che aiutano a raggiungere quel risultato ambientale e che mettono l'industria su un upstream di innovazione, non sulle cose del passato, ma su quelle che altre parti del mondo e altri paesi europei stanno fortemente avviando. Quindi non è la difesa, il rifugiarsi in qualche cosa che c'era prima, fermiamo tutte le innovazioni, ma è vediamo con che strumenti. Quindi se una critica dobbiamo fare, tra di noi però, a quello che abbiamo fatto, è che forse è stata più la parte propositiva che non gli strumenti e tutto il corredo delle necessità. E poi la parte delle risorse. Chiediamo all'Europa di fare un fondo sovrano per l'energia, per l'industria, quando il nostro bilancio non ce lo permette, non ci sono le risorse, si sanno le cose, si dice che è una balla chiederlo stando così come stanno le cose. Occorre anche qui qualcosa di straordinario, ci occorre un'Europa che è in grado di fare un altro debito, altre emissioni di titoli, per avere gli strumenti per accompagnare la transizione che ha dei costi. Draghi dice 500 miliardi, altri valutano anche di più, i costi ci sono, io spero che anche le imprese mettano un po' di capitali, cioè investano non solo in finanza ma anche in innovazione tecnologica e poi gli strumenti ci sono, parte risorse pubbliche, parte attivazione diciamo di partnership, di tutti gli strumenti che si possono fare con l'ABEI e con le altre banche per farlo. Quindi non sconfessiamo le scelte che abbiamo fatto, diciamo che la trasformazione del nostro sistema produttivo ha bisogno di strumenti, materie prime e l'Europa ha fatto già degli atti, tutto il provvedimento per portare in Europa la fabbricazione di chips eccetera e anche tutti gli altri strumenti che non sto a elencare ma che ci sono, che però gli va messa benzina, cioè gli vanno messe risorse, anche qui torniamo al primo tema, come l'Europa può avere, può avere una politica economica, ci sono qui persone che ne parleranno, che consenta più sviluppo e meno magari diciamo solo austerità per dirla con un vecchio slogan e poi come trovare anche nuove risorse con un'operazione di un'Europa più efficace, più coraggiosa e con strumenti maggiori. Grazie Patrizia. Tra l'altro hai toccato un tema molto importante e delicato perché anche nel dibattito che recentemente è stato fatto dai nostri industriali su alcune politiche criticate a livello europeo rispetto al nostro governo non si metteva tanto in discussione l'esigenza di politiche comuni ma il fatto che tempi e risorse fossero adeguate alla transizione per le imprese e anche diciamo alla competizione su uno scenario globale, penso in particolare alla riflessione sull'elettrico. Tra l'altro quello che diceva anche prima Piero Fassino e hai ripreso anche tu sul tema dei diritti di Veto in fase decisionale veniva in mente da un lato in negativo l'atteggiamento che poi sta avendo l'Ungheria che si trova ad avere una sorta di esercizio di diritto di Veto in forma ritorsiva rispetto alla procedura di inflazione che è stata attivata nei suoi confronti quasi oltre al merito delle discussioni perché poi il diritto di Veto porta anche queste distorsioni in positivo per dire che la cooperazione rafforzata non è necessariamente un piano B o una regressione rispetto all'investimento nello sviluppare politiche comuni, l'esempio che cita sempre Prodi di politiche rafforzate è l'euro. L'euro nasce come una cooperazione rafforzata tra una parte degli stati membri. Adesso ci addentriamo un po' di più su questa dimensione macroeconomica con Enrico Morando che oltre a essere qua come relatore è una persona a cui io sono profondamente grato perché negli anni attraverso Libertà Iguale che ha fondato e ha contribuito anche lui in maniera decisiva a sviluppare negli anni alimentare, tiene sempre unite due dimensioni, mi permetto di dire Enrico, quella di una riflessione politico-ideologica su, nel senso buono di questo termine di cui dovremmo riappropriarci per quelle che sono le sfide dei riformisti, di una cultura liberale di sinistra che vuole aggiornare gli strumenti con cui affronta la contemporaneità, calati però poi nella concretezza di alcune scelte e nella capacità a livello proprio economico e macroeconomico per quanto riguarda le politiche pubbliche. Qui arriviamo a uno snodo decisivo del dibattito sull'attualità come la riforma del patto di stabilità che certamente è un tema che vorrei che toccassi nel tuo intervento all'interno della riflessione più ampia sulle prospettive di sviluppo di un'Europa economica e finanziaria. Grazie ancora Enrico. Grazie a voi per avermi invitato, buongiorno a tutti. Dunque noi, è già stato detto, abbiamo discusso, vi ricordate, per anni, 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 di euro bond, di capacità fiscale dell'Unione Europea e dobbiamo dire la verità. In quegli anni, negli anni in cui abbiamo discusso, abbiamo presentato un complesso di elaborazioni molto significative su come avrebbero potuto essere gli euro bond, su quale capacità fiscale bisognava realizzare per l'Unione Europea, ma in quegli anni non abbiamo compiuto concreti passi in avanti. Al massimo, la montagna di quella discussione partorì, ve lo ricordate, ai tempi di Lorenzi in Italia sostanzialmente, il topolino della flessibilità di bilancio riconosciuta ad alcuni Paesi per non mettere radicalmente in discussione come sarebbe stato necessario, ma mitigare il carattere prociclico delle regole europee. E qualche mitigazione ci fu, ma si trattava di una risposta del tutto sproporzionata rispetto all'esigenza. Bisognava cambiare registro sul versante delle regole e invece, tenendo il registro, lo abbiamo corretto ai margini. Poi, con l'esplosione della pandemia, in pochi giorni, la capacità fiscale dell'Unione Europea ha compiuto un passo gigantesco, formidabile, nella dimensione giusta. Cioè abbiamo avuto la svolta per cui abbiamo lavorato per anni. Il Next Generation U ha visto la luce, e cioè un gigantesco piano di politiche pubbliche, di intervento pubblico in economia e nella società, finanziato esattamente dagli Eurobond, cioè da emissioni di titoli di debito pubblico europeo sul merito di credito non dei singoli stati membri, che come sapete hanno un merito di credito molto diverso tra di loro, ma sul merito di credito dell'Unione Europea. Perché questo sono gli Eurobond? Perché è stato possibile quell'improvviso e gigantesco salto in avanti verso la costruzione di un'effettiva capacità fiscale dell'Unione Europea? Per due ragioni. In primo luogo, per il carattere simmetrico della minaccia. Nessuno poteva ragionevolmente pensare di esserne immune. La minaccia della pandemia era rivolta allo stesso modo verso tutti e nessuno poteva ragionevolmente pensare di avere la capacità di cavarsela da solo. Quindi il carattere simmetrico della minaccia è stata una componente fondamentale, a fronte della quale gli argomenti tutti ispirati al cosiddetto, anche se malinteso, interesse nazionale venivano travolti. L'interesse o era europeo o non era. Secondo, di conseguenza, la consapevolezza che la politica monetaria, perché quella ce l'eravamo data una, europea, no? La politica monetaria però, da sola, che aveva contribuito in maniera determinante, dopo la famosa frase seguita da fatti, diciamo, di draghi, no? E aveva consentito all'Unione Europea di misurarsi con qualche efficacia maggiore rispetto alla fase precedente con la crisi cosiddetta dell'euro, del debito sovrano in Europa, ma c'era la consapevolezza di fronte alla pandemia che la politica monetaria che ci eravamo dati come strumento unitario non era in grado di impedire la catastrofe economica che si veniva annunciando a causa delle conseguenze della pandemia e che sul versante specifico della politica fiscale non poteva bastare quello che si fece immediatamente, cioè consapevoli del carattere prociclico che sarebbe stato pericolosissimo delle regole fiscali europee, cosa si fece? Immediatamente si sospese il patto di stabilità, ci sono voluti pochi giorni per decidere questo, ma sospendere delle regole sbagliate era necessario, ma naturalmente non bastava, bisognava tentare di darci delle regole che muovessero nella direzione giusta, non bastava impedire che agissero le regole sbagliate del passato e quindi perché? Perché sospendere il patto era giusto ma non era sufficiente nel senso che la gran parte degli stati europei, alcuni tra i maggiori addirittura, non aveva gli spazi fiscali sufficienti per contrastare efficacemente il fenomeno, le conseguenze economiche in termini di crisi della pandemia. Ci voleva un intervento pubblico, perché solo un intervento pubblico avrebbe potuto avere le dimensioni sufficienti, ma gestito attraverso piani paese, perché i paesi dell'Unione Europea non sono tutti uguali e non presentavano nemmeno la stessa esposizione alla pandemia, ma piani paese all'interno di un gigantesco piano di politiche pubbliche e di investimenti pubblici di tipo europeo. Ecco il Next Generation New e i PNRR, cioè i piani nazionali attuativi del grande progetto che va sotto il nome appunto di Next Generation New. Ora, era ragionevole sperare e addirittura prevedere che non si sarebbe più tornati indietro, che presa quella strada si sarebbe percorsa con coerenza fino in fondo. La mia opinione è che era ragionevole sperarlo, che la svolta era di tale portata che poteva far pensare effettivamente che tentativi di tornare indietro considerando l'iniziativa del tutto straordinaria sarebbero stati vinti, non che non ci sarebbero stati perché era ovvio che ci sarebbero stati, ma si potevano vincere con maggiore facilità di quanto non fosse accaduto in passato. Io continuo a ritenere che era ragionevole e la dimostrazione che era ragionevole fu plasticamente la presentazione della proposta da parte della Commissione delle nuove regole del patto di stabilità, perché le nuove regole del patto di stabilità esattamente questo facevano, creavano un contesto all'interno del quale di fronte a minacce simmetriche sarebbe stato possibile rifare, cambiato tutto quello che c'era da cambiare in termini di dimensioni e di qualità, rifare qualcosa di simile al Next Generation EU. Naturalmente sono consapevole, tutti siamo stati consapevoli da subito, che la nuova proposta di regole della Commissione non era la capacità fiscale degli Stati Uniti d'Europa, non era il bilancio degli Stati Uniti d'Europa, quello resta un obiettivo che è sullo sfondo, ma la proposta della Commissione aveva tutte le caratteristiche per consolidare il passo che si era compiuto e abbandonare definitivamente le regole procicliche di coordinamento della finanza pubblica e di politica fiscale della vecchia Europa, di quella che erano state superate attraverso la fase della gestione della pandemia, per aprire una nuova stagione. Infatti cosa diceva la proposta della Commissione? Torniamoci perché in Italia non è parlato quasi nessuno, è uno scandalo secondo me, una cosa che dimostra la drammatica difficoltà. La Commissione diceva invece di un percorso di consolidamento fiscale imposto agli Stati membri, a quelli in particolare in maggiore difficoltà e con elevati deficit e debito pubblico. Secondo un tentativo di consolidamento imposto attraverso regole uniformi per tutti, i famosi parametri, sapete tutti di cosa sto parlando, la Commissione proponeva un approccio fondato sul contrario, fondato su piani paese che avrebbero dovuto avere la durata minima di 4 anni e la durata massima di 7 anni, quindi un periodo di medio-lungo periodo, diciamo di medio-lungo, nei quali la sostenibilità delle finanze pubbliche, che rimaneva un obiettivo da perseguire ovviamente, non è che era la proposta del Ben Godi, spendiamo, facciamo debito, non era questo, ma la sostenibilità delle finanze pubbliche fosse il risultato di concrete prospettive di crescita, cioè della realizzazione di politiche volte alla crescita, per fare in modo che quel nome, patto di stabilità e crescita, smettesse di essere un flatus vocis puramente, ma fosse qualcosa di concreto, di precisi, fissati nei piani nazionali, processi di riforma e infine di, in una parola, di opportunità assieme ai vincoli, cioè la sostanza della proposta della Commissione era il processo deve essere di consolidamento fiscale per i paesi che ne hanno necessari, di superamento che ne hanno di gravi e di superamento degli squilibri e tutti i paesi avevano squilibri molto gravi, compresa la Germania, oggi sta emergendo quale fosse lo squilibrio drammatico della politica economica ed anche fiscale della Germania, cioè un sistema economico fondato sull'esportazione, ma quando per caso nel mondo non c'è più nessuno che compra quello che produci il modello economico esclusivamente fondato sull'esportazione non consente di vendere i prodotti agli abitanti della Luna e quindi diciamo si determina l'esigenza di entrare in una nuova fase. Era, cioè, questa era la proposta della Commissione, un contesto di regole e di opportunità all'interno del quale la effettiva possibilità di applicare la logica del Next Generation EU, politiche comuni per affrontare minacce e problemi comuni, poteva effettivamente affermarsi. Perché non è accaduto? La risposta non è nelle tecnicalità, non è accaduto questo, cioè la proposta originale della Commissione non ha avuto l'accoglienza che avrebbe potuto e si poteva ragionevolmente sperare che avrebbe potuto avere e sostanzialmente la risposta è di tipo politico, perché qui su questo punto si è misurata la tragica debolezza dell'attuale classe dirigente politica dell'Unione Europea, perché nessuno, nessuno vuol dire nessuno dei leader fondamentali, dei paesi fondamentali dell'Unione Europea ha saputo assumere un'ottica di medio-lungo periodo di collocazione dell'Europa nel nuovo contesto globale che si stava determinando e tutti hanno giocato, chi più chi meno naturalmente, hanno giocato la partita dell'affermazione del proprio interesse nazionale in una logica di somma zero, in una logica cioè in cui quello che guadagno io perdi tu e viceversa. Naturalmente non era l'orizzonte dentro cui collocare il tentativo di cui vi sto parlando e che era necessario. In Italia poi la vicenda, cioè questo vizio in Italia col governo Meloni è stato, ha raggiunto delle soglie letteralmente incredibili perché fin dall'inizio esce la proposta della Commissione e il governo, dopo qualche mese, il governo Meloni che cosa si mette a tentare di fare? Un'operazione letteralmente suicida, il problema è che in Italia nemmeno l'opposizione ha organizzato una contrapposizione netta a questa logica. Per cui Meloni e Giorgetti hanno potuto fare una cosa che non stava né in cielo né in terra, scegliere di puntare addirittura ad un altro anno di proroga, avete presente l'orizzonte di brevissimo periodo, non so nemmeno come chiamarlo, non è lo short termismo come si dice adesso perché se uno non parla un po' inglese, non c'è solo l'ottica di breve periodo, è l'assurdità, cioè mantenere più a lungo regole che si considerano del tutto superate ma sospenderle. Questa era l'orizzonte politico dentro cui si collocava Meloni, con in più, adesso vi ricorderete di queste frasi, con in più l'assunzione della cosiddetta logica a pacchetto. Cosa diavolo voleva dire la logica a pacchetto? Voleva dire, altro tentativo riuscito di suicidio, voleva dire io, governo italiano, vi do a voi europei, perché a me sembrerebbe che non interessi, cosa demenziale in sé, la revisione del nuovo MES e io vi do la ratifica del MES. Se voi mi date, nell'ipotesi massima, la proroga della sospensione, ma se non mi date la proroga della sospensione, almeno mi dovete mettere delle spese pubbliche fuori dal conto del patto. La cosiddetta golden rule, qualsiasi cosa voglia dire questa benedetta golden rule, vuol dire questo. Prendete delle spese, scegliete quali, e buttatevele fuori dal conto del deficit e di conseguenza in prospettiva anche del debito. Una posizione, ripeto, letteralmente suicida, che primo non aveva nessuna possibilità di realizzarsi, perché era ovvio che la sospensione delle regole non è una politica. Le nuove regole sono una politica. Possono essere giuste o sbagliate, ma il mantenimento della sospensione, quando l'emergenza che ha determinato la sospensione è passata e quando è in campo una nuova proposta, è di tutto evidente che non può andare da nessuna parte. Secondo, perché in particolare la proposta di merito, prendete delle spese e toglietele, è contrario agli interessi del Paese, perché noi non abbiamo un bilancio modificabile immediatamente per fare in modo che la spesa per investimenti possa avere un effettivo privilegio e una dimensione tale da incidere positivamente sulla realtà economica del Paese. Cioè, sono stati lì mesi a pensarla, ma hanno messo giù una posizione che letteralmente non aveva un capo e una coda e che era destinata ad una sconfitta. Ora, voi tutti sapete com'è andata, alla fine si è determinato un compromesso che naturalmente definisce un insieme di regole che significativamente, lo dico in rapporto a quello che diceva Piero, naturalmente è migliore, le regole del compromesso sono migliori delle regole vecchie che tornerebbero in vigore immediatamente se il patto, no, lo dico perché sento parlare nell'opposizione italiana di qualcuno che vuole non votare quelle regole, no, voglio dire a tutto c'è un limite, questa è la mia personale opinione, anche all'autolesionismo, no. Allora, quelle regole non le abbiamo, non ci abbiamo lavorato sopra in polemica col governo Meloni quando era tempo di lavorarci. Abbiamo così indebolito il fronte di chi sosteneva la proposta originaria della Commissione, in particolare non siamo riusciti a schierare il fronte progressista su quella linea quando avrebbe potuto e dovuto perché questo è il PSE, diciamo, in Europa, se è coerente con la sua funzione. Ci siamo divisi per stati nazionali, naturalmente, in particolare lo ha fatto purtroppo il punto di riferimento della sinistra europea nel PSE, cioè la socialdemocrazia tedesca, che non ha ostacolato il tentativo del Ministro dell'Economia di fare quello che poi ha fatto, cioè introdurre un complesso di salvaguardie che facevano tornare dalla finestra a quello che era uscito dalla porta nella proposta della Commissione e ci siamo ritrovati, diciamo, in un contesto nel quale il fronte politico dell'innovazione e della politica fiscale europea è stato lasciato praticamente a nessuno, cioè non l'ha davvero occupato, quel fronte lì non l'ha davvero occupato nessuno, non aveva combattenti, in buona sostanza. Ora, qui, vado più rapidamente perché se no ci perdo il filo e vi faccio annoiare troppo. Ora, in questo modo, in Italia abbiamo perso un'occasione, ma l'occasione di cui sto parlando è un'occasione europea, voglio dire, è del tutto chiaro che le regole del nuovo patto di stabilità sono migliori di quelle che c'erano, ma non sono all'altezza della sfida nuova. Perché si potrebbe dire, vabbè, d'accordo, però ci hai detto tu prima, no, che per anni abbiamo discusso di Eurobond, di capacità fiscale dell'Unione Europea, senza riuscire a fare passi in avanti. Poi improvvisamente la pandemia e il passo in avanti l'abbiamo fatto. Perché non dovrebbe succedere anche adesso? Ci sarà qualcosa? Abbiamo tempo, rilanciamo la nostra battaglia, ma dopo la vinceremo. Il problema è il primo dopo, perché non abbiamo questo tempo. Perché la vera novità, queste sono le cose che sono già state dette, adesso la cito, la vera novità è che il contesto è radicalmente mutato. A partire dal fatto che il principale bene comune, non dico che io sto dicendo una cosa fuori di discussione, a me sembra fuori di discussione, ma può darsi che mi sbagli, però vorrei che qualcuno mi dimostrasse che mi sbaglio. Il principale bene comune che l'Unione Europea deve produrre per i cittadini europei in questo momento si chiama la sicurezza europea. Questo è quello che penso io. Perché è tornato in dubbio. L'Unione Europea è nata per costruire le condizioni della pace stabile in Europa, perché l'Europa aveva fatto nascere storicamente negli ultimi secoli i conflitti che poi avevano finito per coinvolgere il mondo. Su quel versante siamo riusciti perfettamente. È un risultato che ha dell'incredibile. Lo diceva già Piero prima. Però adesso la guerra è tornata come una componente fondamentale del nostro presente. perché è un paese che aspirava all'Unione Europea e aspira tuttora all'Unione Europea. Anche per questa via, trasformandosi in una vera democrazia liberale, naturalmente con le caratteristiche che può avere in un paese come quello e così via, è stato aggredito da una potenza imperiale. Questa è la cosa. Ed è chiaro che la guerra in Europa, un'aggressione contro un paese che aspirava ed aspira anche a fini di consolidamento della democrazia liberale, ad aderire all'Unione Europea, cambia radicalmente il contesto e esaurisce il tempo che pensavamo di avere. Nel senso che è urgente fornire una risposta a un complesso di beni comuni. Adesso non voglio esagerare con c'è solo la sicurezza. Non è vero che c'è solo la sicurezza. Ci sono beni comuni molto importanti, ma non c'è dubbio che l'urgenza nasce dal fatto che da un lato c'è la minaccia armata di una potenza imperiale che preme sull'Europa. E dimenticatevi, dimentichiamoci tutti, ho visto che lo ha ripetuto Biden, che se Putin vince in Ucraina si fermi lì. non succederà. Ha detto ieri di nuovo Biden e io penso che abbia purtroppo assolutamente ragione. E allora il tema, adesso io mi sto occupando della parte finanziaria, bene, il tema di come si mettono a disposizione della Unione Europea come tale le risorse per riprendere il progetto che fu di De Gasperi, cioè del più grande statista che noi abbiamo avuto in Italia nel corso degli ultimi anni. Lui a metà degli anni 50, anzi all'inizio degli anni 50, per poi vedere esaurito il suo tentativo con una sconfitta, a metà degli anni 50, pensò alla difesa comune europea. Quella sconfitta pesa. Sia chiaro, i problemi che si frappongono alla costruzione di una capacità di difesa e di costruzione del bene comune e sicurezza in Europa non sono prevalentemente di tipo finanziario. Hanno a che fare con i problemi di cui ha parlato Fassino, in particolare di cui ha parlato Toia, cioè problemi di tipo geostrategico di collocazione dell'Europa nel mondo e così via. Ma non c'è dubbio che c'è anche il problema del finanziamento delle scelte sul versante della politica di sicurezza. E appena, proprio qualche giorno fa, si è cominciato a parlarne per iniziativa del commissario europeo Breton, naturalmente abbiamo avuto l'insurrezione dei soliti, cioè quelli che come si tocca il tema non solo dell'accessione di sovranità, tema delicatissimo nel campo della politica estera e di sicurezza e di difesa, ma anche il tema di una effettiva fiscalità europea volta a finanziare investimenti su quel versante, naturalmente insorgono per dire non è nei trattati. Allora, ed è vero, non è nei trattati. Primo o dopo bisognerà arrivare a modificarli. Ma il fatto che non è nei trattati, non glielo possiamo andare a dire ai cittadini europei che sono preoccupati per la loro sicurezza e cercano una difesa, non è nei trattati, perché la loro risposta è siete voi i politici, scrivete i trattati, cambiate i trattati, aggirate i trattati, fate quello che volete, lo ha detto l'altro giorno Draghi presentando i primi risultati del suo lavoro, ha detto purché facciate qualcosa, diciamo non pretendo grande coerenza, ma fate qualcosa perché state tragicamente perdendo l'appuntamento. Allora, cosa si può fare? La mia opinione è che quello che si può fare davvero sia, e non è impedito dai trattati così come sono, la costruzione di un piano gigantesco di intervento pubblico, per esempio, adesso sviluppo il tema sicurezza ma si può dire la stessa cosa su temi come quello della digitalizzazione, come quello dell'ambiente e così via, bisogna fare in modo che nell'immediato i paesi che ci stanno costituiscano attraverso strumenti di garanzia che stanno nel loro bilancio alla emissione di titoli di debito europeo sul merito di credito dell'Unione Europea per finanziare quel gigantesco volume di investimenti che sono indispensabili non solo per rafforzare i nostri, tra virgolette, eserciti, ma prima e molto prima per rafforzare la nostra capacità produttiva nel settore della difesa. l'Europa non è malissimo messa su questo punto ma è stata incapace per ora di coordinamento. È incredibile, ma ripeto quello che ha detto Breton, io l'ho letto due volte perché pensavo di avere... È incredibile che una delle ragioni ha detto Breton, guardate, voi non ci credete, anche lui ha detto, una delle ragioni per le quali il 68% in ogni anno, mediamente, negli ultimi anni, di quello che compriamo sul versante delle dotazioni per l'armamento è comprato negli Stati Uniti. E una delle ragioni è che non c'è un catalogo europeo e non c'è una consapevolezza diffusa di quali sono le produzioni europee in questo campo perché la competizione è prevalente sull'elemento addirittura dell'informazione su quello che siamo in grado di produrre. Sembra incredibile ma siamo ad una dimensione tale per cui il tema degli investimenti su questo versante può determinare effettivamente un salto di qualità perché l'Unione Europea ha le condizioni, i diversi paesi dell'Unione Europea nel loro complesso hanno le condizioni per un protagonismo. In un contesto nel quale il tema naturalmente finanziario è d'accordo ma diciamo nell'immediato possiamo fare così ma poi ci vogliono le scelte sul versante dello strumento militare sul versante della politica estera qui ci vorrebbero cose davvero coraggiose io personalmente ho apprezzato le cose dette da Macron nella media naturalmente non proprio tutte ma negli ultimi tempi ma una cosa non capisco perché gli altri paesi dell'Unione Europea non mettano la Francia di fronte a una richiesta davvero pressante per fare in modo che il seggio che hanno all'ONU nel Consiglio di Sicurezza venga dalla Francia che diciamo la verità se rimane la Francia a quel tavolo conta poco con tutto rispetto per carità che poi se qui c'è un francese dire che la Francia conta poco per loro è come insultare la mamma quindi diciamo è un disastro ma conta effettivamente poco per invece fare un'operazione nella quale è anche un modo per rivitalizzare l'ONU perché altrimenti il rischio è che sia una sede nella quale le autocrazie che hanno diritto di veto impediscono praticamente qualsiasi qualsiasi iniziativa e noi invece avremmo bisogno per la pace del mondo per la sicurezza eccetera di avere l'ONU ora su questo versante sono le cose più complesse ma dal punto di vista finanziario secondo me è possibile anche nel contesto di regole attuali che avrebbero potuto essere migliori ma progredire attraverso le cooperazioni rafforzate in particolare concedendo garanzie degli stati membri così non c'è bisogno per operazioni di investimenti che sono gestiti alla dimensione europea di fronte a minacce comuni europei questa è la prospettiva su cui secondo me vale la pena di lavorare e vi ringrazio grazie Enrico dare adesso la parola al professore Maurizio Ferrera mi faceva venire in mente la riflessione sulla sicurezza che ha fatto prima Enrico Morando la sicurezza non ha solo una dimensione per quanto riguarda la difesa ma ha nella tradizione anche delle politiche pubbliche europee una dimensione sociale di protezione della persona del cittadino rispetto alle prestazioni dello Stato rispetto alla tutela sul mercato del lavoro ecco c'è una dimensione sociale della sicurezza che sappiamo qua mi viene in mente la relazione che aveva fatto Giorgio Tonini l'anno scorso in un contesto globale dove non è vero che le diseguaglianze aumentano ovunque ma dove c'è stata una riduzione molto forte di diseguaglianze nelle potenze emergenti nei paesi emergenti e invece un aumento di difficoltà sociale di sicurezza sociale proprio nella vecchia Europa è chiaro che anche la insicurezza sociale è un argomento fortissimo a chi critica l'Europa e la necessità di una maggiore integrazione questa premessa per chiedere al professore una riflessione aggiornata su quello che si è fatto un po' in questo ultimo mandato a livello proprio di politiche sociali e quelle che sono le prospettive su questo fronte che ha un impatto politico molto importante anche per la posizione poi dei diversi stati membri grazie grazie per l'invito innanzitutto e grazie per la domanda alla quale cercherò ovviamente di rispondere come posso due premesse i due obiettivi originari genetici del progetto di integrazione europea erano pace e prosperità nella pace ha parlato appena Morando adesso il problema non è tanto non è più la pace tra i paesi europei ma la pace quantomeno nel contesto che circonda l'Europa e comunque la crescita di una minaccia esterna sempre più allarmante il secondo obiettivo prosperità che significava nella nelle intenzioni dei padri fondatori una un intreccio virtuoso tra la logica del mercato e della crescita basata sul mercato e la logica della cittadinanza sociale della protezione sociale quindi se è vero che per quanto riguarda la pace adesso la sfida è cambiata e dobbiamo rafforzare la sicurezza esterna dell'unione visto che abbiamo realizzato conseguito la pacificazione interna così per quanto riguarda la prosperità dobbiamo ricreare il circolo virtuoso tra mercato e welfare in un contesto sia esterno globale che anche interno che ha a che fare cioè con l'allargamento dell'Europa la sua differenziazione interna che non funziona più o che meglio o che comunque ha bisogno di incisive riconfigurazioni ci sono le elezioni europee e Pietro Fassino ha detto che saranno e io sono totalmente d'accordo per la prima volta forse elezioni decisive elezioni che noi politologi chiamiamo di primo ordine ossia in cui la posta in gioco riguarda davvero l'Europa non è solo un modo per misurare diciamo il peso relativo delle forze nazionali dei partiti nazionali sulla base di tematiche che hanno a che fare con l'agenda nazionale ma le tematiche europee per la prima volta sono dovrebbero ma di fatto saranno secondo me al centro della campagna elettorale nei vari paesi poi giustamente Patrizia Toia ha aggiunto e guardate che però non basta essere pro europei cioè il conflitto la linea di conflitto non è solo fra essere pro europei e anti europei ma se si è pro europei bisogna anche dire chiaramente che si vuole un'Europa più forte dal punto di vista delle capacità istituzionali quindi bisognerà chiarire agli elettori che l'europeismo progressista in Italia del PD è un europeismo che chiede con forza un rafforzamento delle capacità istituzionali ma non ci si ferma qui perché come ha detto il terzo relatore cioè Morando al di sopra di queste due prime discriminanti l'essere europeisti e l'essere a favore di un rafforzamento istituzionale dell'Europa c'è una terza discriminante che riguarda le politiche quali politiche deve fare un'Europa rafforzata e qui se voi leggete già oggi il programma dei popolari che è appena uscito e è stato appena approvato a Bucharest è il programma dei socialisti vedete che ci sono due visioni diverse a parità di europeismo e a parità di come dire un europeismo che chiede più Europa quello che differenzia questi due manifesti io l'ho trovato in maniera molto evidente è precisamente il livello il piano delle politiche e in particolare Morando ha già parlato delle politiche economiche e fiscali in particolare le politiche sociali che sono una componente molto importante del fattore prosperità del macro obiettivo prosperità il partito popolare quasi non ne parla oppure se ne parla è nel nel senso di così parlare di alcuni valori sociali senza precisare però come devono essere poi realizzati e soprattutto quale deve essere la divisione del lavoro fra il livello nazionale e quello europeo mentre il manifesto del partito socialista io l'avrei voluto un po' più ambizioso però lo è a sufficienza contiene delle proposte concrete che sono basate su una visione della divisione del lavoro fra le politiche nazionali e le politiche UE e propone un rafforzamento delle politiche dell'Unione Europea con due obiettivi uno rafforzare la capacità dell'Unione Europea di rafforzare la protezione sociale all'interno dei paesi cioè l'Unione Europea questo è il senso della dimensione sociale europea nel suo significato stretto cioè un'Europa che legiferi che prenda delle iniziative prenda delle misure che poi siano vincolanti in molti casi se si tratta di direttivi o di regolamenti sui sistemi di protezione sul diritto del lavoro sul diritto previdenziale dei paesi membri oppure metta a disposizione dei paesi membri delle risorse quindi questa è la prima dimensione che è molto come dire sottolineata dal manifesto del partito del PES la seconda è invece il rafforzamento della solidarietà tra paesi della coesione sociale dell'intera Europa che non può che passare tramite meccanismi chiamiamoli di reciprocità ma di fatto di redistribuzione di risorse tra paesi che hanno maggiori capacità finanziarie e di bilancio e i paesi più vulnerabili naturalmente con tutte le condizionalità che è giusto includere quindi queste due dimensioni la dimensione sociale in senso stretto e la dimensione invece della solidarietà cross nazionale allora mi chiedeva il nostro presidente quali sono state le realizzazioni allora anche su questo cioè sul piano delle realizzazioni io sono abbastanza ottimista nel senso che ritengo che l'ultima commissione la commissione von der Leyen abbia fatto bene per quanto riguarda la dimensione sociale e in parte Patrizia Toia poi lo può confermare ha fatto bene perché era nell'accordo di coalizione del Parlamento che appunto voi glielo avete imposto cosa che voglio dire deve essere una lezione per il futuro cioè cercate di imporlo anche nella prossima commissione che cosa ha fatto sul piano cominciamo sul piano della dimensione sociale in senso stretto cioè rafforzare attraverso misure di varia natura anche legislativa la protezione sociale all'interno dei paesi ha realizzato buona parte del pilastro europeo dei diritti sociali questo questo grande documento chi non lo conosce lo legga si trova facilmente facendo google sono 20 principi a volte espressi sotto forma di diritti ogni cittadino europeo ha un diritto a sono 20 principi suddivisi in tre capitoli uno sulle pari opportunità e l'equo accesso al mercato del lavoro un secondo su condizioni eque di lavoro e il terzo protezione sociale e inclusione sociale io lo trovo personalmente l'ho anche detto in una conferenza in cui gli amici cileni prima degli ultimi cambiamenti si interrogavano su come impostare la loro costituzione per la parte sociale dicono prendete il pilastro dei diritti sociali e mettetelo nella vostra costituzione perché è il documento oggi più avanzato al mondo di quali sono le tutele i diritti che devono essere garantiti ai cittadini naturalmente il pilastro non li garantisce perché è un manifesto programmatico quindi deve essere tradotto in misure concrete e la commissione von der Leyen ha fatto esattamente questo ha preparato un piano di attuazione per ciascuno dei venti principi sono state indicate delle iniziative delle misure di attuazione di implementazione più di cento e ne sono già state adottate 91 tra queste molte sotto forma di hard law diciamo tecnicamente cioè di direttive e regolamenti cioè di provvedimenti vincolanti che vincolano i paesi membri a recepirle nei propri ordinamenti nazionali faccio alcuni esempi la direttiva sui congedi di maternità e i congedi parentali abbiamo dovuto cambiare la nostra legge in Italia per effetto di quella direttiva anzi io suggerirei in vista della campagna elettorale di fare degli esempi concreti per far capire ai cittadini cosa fa e cosa ha fatto l'Europa sulla dimensione sociale la direttiva sul salario minimo la direttiva su le condizioni trasparenti dei contratti di lavoro la direttiva che sta arrivando alla fine sul lavoro su piattaforma se ne possono citare molte altre la garanzia il rafforzamento della garanzia giovani la garanzia per l'infanzia l'istituzione di una autorità europea per il lavoro la le raccomandazioni che non sono vincolanti però hanno un peso forte per la introduzione di un quadro di regole sul reddito minimo sul reddito minimo che se fosse attuata in Italia come dire andrebbe a ritoccare molte delle cose di questo reddito minimo del governo Meloni la raccomandazione sull'accesso alla protezione sociale dei lavoratori dipendenti e degli autonomi anche qui moltissimi spunti per le politiche italiane insomma queste 91 ho citato le principali queste 91 iniziative hanno già fatto fare alla dimensione sociale europea molti progressi ma è successo anche altro si sono aumentati si sono aumentate le risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione Europea per realizzare politiche a livello nazionale durante il covid il fondo EU for health per esempio 6 miliardi di euro un nuovo fondo per l'aiuto alimentare agli indigenti il rafforzamento del fondo di adeguamento alla globalizzazione tutte cose che i cittadini non conoscono perché in genere questi fondi non vengono dati ai cittadini no l'Unione Europea non può erogare prestazioni direttamente ai cittadini eroga le risorse ai governi i quali poi le distribuiscono alle regioni ai comuni eccetera spesso dimenticandosi di almeno di mettere da qualche parte il logo dell'Unione Europea visto che l'Unione Europea cofinanzia però fare esempi perché ce ne sono tanti di diciamo benefici e di prestazioni che arrivano ogni giorno ai cittadini e li aiutano a fronteggiare i loro bisogni che sono stati originati dal punto di vista legislativo e anche spesso cofinanziati dall'Unione Europea teniamo conto che il pilastro qui è una cosa più difficile da spiegare però il pilastro europeo è adesso utilizzato come strumento di condizionalità sociale voi vi ricordate forse questa espressione svalutata giustamente peggiorativamente durante il periodo dell'austerità la condizionalità il memorandum o van de stendi quelli che hanno strozzato la povera gente in Grecia ecco adesso la condizionalità almeno in parte funziona al contrario e cioè l'Europa dà soldi dà risorse solo se i paesi si impegnano a realizzare obiettivi non leggi obiettivi se noi guardiamo al piano nazionale di resilienza e riforme al PNRR e noi ci siamo impegnati a raggiungere degli obiettivi tangibili tot case di comunità in sanità tot lavoratori disoccupati che beneficiano della garanzia occupazione e i soldi vengono soltanto se c'è prova che tutti i passaggi non solo legislativi ma anche attuativi per arrivare a quel risultato sono stati realizzati e in molti casi anche se effettivamente il numero dei beneficiari è quello previsto anche questa è una cosa che gli elettori non conoscono ma che andrebbe loro detta facendo magari qualche esempio in Italia di che cosa è stato messo nel PNRR che non ci sarebbe stato se non ci fosse stata questa condizionalità sociale poi è stato già detto da Patrizia Toia sure non solo il Next Generation EU che ha messo a disposizione sovvenzioni a perdere la prima volta che l'Europa dà sovvenzioni senza chiederle il rimborso cioè non prestiti a basso costo ma sovvenzioni gratuite tra virgolette per realizzare di questa entità questa entità per realizzare obiettivi anche sociali il 20% dell'RFF che è lo strumento finanziario del Next Generation EU è riservato ai settori inclusione istruzione eccetera eccetera quindi ha dato un enorme contributo il piano Next Generation EU anche alla modernizzazione delle politiche e dei servizi di protezione sociale in molti paesi soprattutto in Italia perché siamo il paese che ha preso più soldi tanto è stranissimo lo stesso governo voglio dire il PNRR è diventato solo una questione ci danno i soldi non ci danno i soldi ma nemmeno più sui siti c'è scritto che cosa è stato realizzato ed è pazzesco voglio dire che non lo faccia questo governo tutto sommato mi sta bene però è un peccato che non venga valorizzato il risultato di questo PNRR che dopo tutto è stato finanziato da ingenti risorse dell'Unione Europea allora detto questo detto tutto questo tra l'altro una cosa importante che dico perché può essere sfruttata in campagna elettorale è stato adottato nel corso dell'anno scorso una nuova procedura che va sotto il nome in inglese di Social Convergence Framework cioè un sistema di regole di procedure per valutare ogni anno la convergenza tra i sistemi di protezione sociale dei paesi membri convergenza verso l'alto cioè l'idea è che un miglioramento convergente verso l'alto degli standard di sicurezza di protezione sociale faccia bene all'Europa a quell'obiettivo di prosperità che è un obiettivo genetico e fondativo e che quindi questa convergenza vada misurata in modo da poter essere sicuri se c'è o non c'è e soprattutto da essere da capire quali sono i paesi che non si allineano che sono devianti per adesso verrà rafforzato in futuro il sistema funziona così che nell'autunno la commissione prepara un rapporto che si chiama un rapporto sull'occupazione europea ma in realtà è molto più ampio nel quale viene misurata la performance sociale di tutti i paesi membri sulla base di una batteria di indicatori ce ne sono circa tra i 10 e i 15 adesso vi dico quali sono ogni paese per ogni paese si fanno delle schede che misurano dove si trova il paese rispetto a questi indicatori i paesi che hanno che rispetto a una maggioranza di indicatori sono in ritardo in situazione critica dice la commissione scatta o viene messa scatta una bandierina viene messa una bandierina si dice che questi stati membri sono flagged l'italia naturalmente è stata flagged cioè ha ricevuto la bandierina nera nel rapporto della fine del 2023 su 7 indicatori occupazione femminile la percentuale di needs i livelli di povertà adesso non li ricordo tutti i 7 sono tutti i 7 importantissimi e cosa succede ai paesi che sono come dire che ricevono la bandierina nera vengono sottoposti a una valutazione più approfondita la quale confluirà nei rapporti sui paesi che escono in genere nel mese di marzo che sono poi importanti perché sulla base di questi rapporti verranno elaborate le cosiddette raccomandazioni specifiche per paese che la commissione e il consiglio pubblicano nel mese di luglio quindi a luglio quest'anno noi sapremo cosa ci raccomanderanno ci raccomanderanno la commissione del consiglio per rimediare a queste 7 criticità sulla base della valutazione che riceveremo allora suggerimento non ne ha parlato nessuno io l'ho citato in mio articolo sul Corriere non ne ha parlato nessuno quando esce la valutazione di secondo livello marzo probabilmente incalzate il governo su questo cioè parlatene incalzate il governo l'Europa ci dice che siamo in situazione critica su queste robe qui non state facendo niente alcuni vi diranno potevate fare voi ed è vero però insomma adesso il governo sono loro no? ecco quindi cavalcate questa questa sponda che vi offre l'Europa ma per giustificare la vostra insoddisfazione nei confronti dello status quo per assenza di politiche adeguate anche questo è un modo come dire per fare campagna elettorale perché voi usate l'Europa non più come matrigna ma come madre protettrice in questo caso che ci rimprovera perché non stiamo facendo le cose che dovremmo fare per quanto riguarda la protezione sociale la sicurezza dei cittadini allora e questo processo è molto importante il suo rafforzamento Patrizia dovrebbe andare nel negoziato è una piccola cosa la presidenza belga sta facendo molto su questo ci sarà un un giambo consiglio di ministri economia lavoro affari sociali ad aprile perché questa deve diventare una specie di procedura di squilibri macro sociali non non diversa da quella degli squilibri macroeconomici com'era l'idea originaria quindi su questo vale la pena che voi vi spendiate per la prossima per la prossima commissione non vorrei dilungarmi troppo parlo però allora valutazione positiva di quello che si è fatto ma non trionfalismo perché perché se noi andiamo a guardare gli indicatori sulla situazione sociale dei paesi membri dei cittadini vediamo che in effetti anche grazie a queste misure ci sono stati dei passi in avanti su alcuni indicatori in alcuni ambiti per esempio i tassi di occupazione qualcosa anche in termini di pari opportunità per esempio è molto diminuita prima una volta era altissima in tutti i paesi la quota di povertà femminile cioè le donne avevano un tasso di povertà molto più alto di quello degli uomini invece questa cosa è diminuita perché in molti paesi poco in Italia ma in molti infatti siamo in situazione critica lì in molti paesi si sono prese delle misure volte in particolare a promuovere l'inclusione delle donne in particolare quelle più vulnerabili nel mercato del lavoro c'è però un e poi c'è stato in media in numerosi paesi un incremento dei cosiddetti investimenti sociali e cioè le spese per gli asili nido per l'istruzione per la formazione per la conciliazione e così via di questi risultati positivi il più macroscopico risultato negativo è però l'aumento della povertà all'interno di una particolare tipologia di famiglie quelle a bassa intensità di lavoro così come le chiama Eurostat cioè sono quelle in cui i cui componenti i coniugi i due partner ma anche i figli mangiareni se ci sono hanno un basso attaccamento al mercato del lavoro o non lavorano o lavorano poche ore o se lavorano tante ore lavorano con contratti precari con frequenti periodi di non attività questa tipologia di famiglie che è particolarmente ampia in Italia anche perché noi abbiamo una quota di famiglie monoreddito quindi strutturalmente più fragili delle famiglie di reddito a doppio reddito degli altri paesi comunque il tasso di vulnerabilità e quindi di povertà di questa tipologia di famiglia che però voglio dire parliamo del 20-30% di cittadini europei che si trova in queste situazioni questo è aumentato in tutti i paesi e quindi è come dire una anche un'indicazione che l'Europa anche se è fatta di 27 paesi è ormai un sistema sociale a vasi comunicanti e quello che succede in un paese poi tende a succedere anche negli altri paesi perché ci sono dei trend molto simili e molto comuni allora questo è un tema tra gli altri ma un tema da mettere nell'agenda di priorità per il futuro per la prossima commissione da cosa dipende questa questa questo fallimento questa lacuna da tante cose dalla inadeguatezza ancora della protezione di base della rete di sicurezza di base reddito minimo sostanzialmente e io credo che noi peggioreremo sotto questo profilo dopo quanto ha fatto questo governo la precarizzazione precarizzazione priva di tutele la assenza del secondo reddito e quindi la inattività del secondo componente tipicamente la donna e l'alta percentuale di giovani che non studiano il lavoro tutti i fenomeni che in Italia si cumulano e quindi che rendono questa sfida particolarmente acuta nel nostro paese allora non posso entrare nel merito ci sono tantissime proposte specifiche io ho appena concluso un progetto internazionale sul futuro della cittadinanza sociale europea che formula una serie di proposte specifiche su questo terreno vi dico solo il motto con cui noi chiudiamo la parte più di prospettiva che le politiche nazionali ma dell'unione europea devono diventare tutte in particolare quelle sociali social inclusion proof cioè a prova di inclusione sociale qualsiasi cosa si faccia bisogna chiedersi qual è l'effetto di quella politica su le persone più vulnerabili in particolare le categorie che ho appena menzionato e se non ci si è pensato bisogna pensare a come rafforzare quella politica per includere queste persone che sono più quindi il concetto di social inclusion proof bisogna trovare un'espressione italiana che lo renda e poi può diventare un motto della campagna elettorale l'altra cosa è che c'è nel programma del PES assolutamente rifinanziare SURE SURE è questo strumento che 100 miliardi di euro presi con debito comune che ha sostanzialmente aiutato cofinanziato le casse integrazioni dei paesi membri durante il covid il bilancio della cassa integrazione italiana sarebbe esploso se non ci fossero stati i fondi di questo schema di SURE anche qui di nuovo siccome i lavoratori sospesi hanno ricevuto l'integrazione salariale dall'INPS non lo sanno che l'Europa è stata come dire promotrice di queste iniziative e magari siccome ormai il credito l'INPS l'ha preso potete ricordare nella campagna elettorale che se non ci fosse stata l'Europa avremmo avuto problemi anche a pagare la cassa integrazione questo schema deve essere e così dice il programma del PES deve essere non solo rifinanziato perché purtroppo è scaduto e qui rimprovero nessuno ha detto niente nessuno ha detto niente Draghi al summit di Porto un anno prima che scadesse aveva detto insieme al premio a Sanchez dobbiamo evitare di farlo scadere e aveva già iniziato un'operazione di tessitura che evidentemente non ha riferito a Meloni o Meloni non ne ha tenuto conto per cui nessuno in Europa non lo so forse il Parlamento avrà detto qualcosa sicuramente in Italia io non ne ho sentito parlare di questa cosa abbiamo perso un'occasione notevole e non dobbiamo perderla per il futuro così come questo è più diciamo negli auspici la famosa capacità fiscale comune di cui ha parlato Enrico Morando bene ho finito vorrei soltanto concludere concludere alcune cose le ho già dette sulla campagna elettorale perché questa volta è importante siccome appunto la posta in gioco saranno anche le politiche europee non solo il sostegno all'Europa in quanto tale e la conferma della posizione europeista del PD ma anche le politiche che il PD vuole promuovere in Europa avendone la possibilità perché sarà sicuramente indispensabile per formare una coalizione una maggioranza nel Parlamento e quindi potrà negoziare non solo ma poi il Parlamento come diceva giustamente Patrizia Toia ecco legislatore cioè qualsiasi anche se non ha il potere di iniziativa legislativa comunque ha delle leve degli strumenti per far sì che la Commissione e il Consiglio adottino certe misure quindi parlare delle politiche che volete con degli esempi concreti di come le politiche già esistenti hanno aiutato concretamente i cittadini gli elettori italiani come quelle che voi proponete potranno in futuro aiutare i cittadini italiani in particolare il vostro bacino sociale le persone più deboli cosa manca all'Italia per allinearsi agli standard europei perché anche questo avete non avete servito su un piatto d'argento perché è la second level analysis della Commissione europea questo deve diventare come dire secondo me poi fate quello che volete un cavallo di battaglia dobbiamo fare questo la raccomandazione invito per esempio io tra le cose che peraltro avete già proposto nel passato tirocini gratuiti scusi per carità tirocini retribuiti conti personali per l'apprendimento che per qualche ragione Orlando ha completamente trascurato è uscita la comunicazione non ne ha neanche parlato rifinanziamento della sanità un rafforzamento anche al di là degli obiettivi europei della garanzia giovani perché i NITS continuano ad esserci e della garanzia per l'infanzia queste sono le cose di cui bisogna parlare e poi se volete un vostro piano che come dire attingendo alla raccomandazione sul reddito minimo garantito dell'Unione Europea dica a noi quello che ha fatto questo governo non sta bene è disallineato rispetto agli standard europei quindi vogliamo cambiarlo e date un po' le grandi linee che sono poi quelle la vita di gentiloni perché quella dovrà essere la strada e dite che a livello europeo oltre alla raccomandazione volete anche una direttiva perché molti paesi la stanno chiedendo quindi accodatevi grazie 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 per i tantissimi spunti anche di questa relazione tra l'altro sarebbe interessante parlavo prima con Patrizia capire il quadro di incentivi sanzioni collegabili al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle raccomandazioni perché è quello perché se no resta no una questione di dibattito politico da usare anche internamente ma poi con meno forza dunque le raccomandazioni riflettono un impegno non legale ma politico per cui se la raccomandazione è passata allora significa che i paesi membri hanno hanno preso un impegno politico a realizzare le sue finalità e quindi può essere utilizzata non è acqua fresca una comunicazione può essere acqua fresca ma una raccomandazione no arriviamo all'ultima relazione intervento su un tema che è uscito già più volte che chiederò adesso a Giulia di approfondire essendo una questione che segue da diverso tempo e quindi riuscire a mettere un po' più fuoco in questo quadro di sfide per riuscire ad avere un'Unione Europea all'altezza di quella che è una sempre più dura competizione globale sul fronte dell'innovazione tecnologica e in particolare sugli impatti che l'intelligenza artificiale sta avendo e che avrà sempre di più come l'Unione Europea può al meglio affrontare queste sfide cosa sta facendo quando sappiamo che ogni settimana leggiamo articoli molto pesanti sul fatto la sfida è persa non raggiungeremo mai il livello degli Stati Uniti e della Cina dall'altro lato chi dice non possiamo però neanche essere solo gli arbitri o i regolatori se non abbiamo anche in mano la tecnologia è un tema che ha un impatto molto più ampio rispetto al settore dell'innovazione e su questo ti chiederei una riflessione grazie mille grazie in particolare per l'invito perché è la prima volta che vengo qua quindi mi fa piacere sono stupita piacevolmente molto così cercherò modestamente di dare il mio contributo a un panel che già ha detto tutto ma ha già detto tutto quindi aggiungo questo tassello più che sull'intelligenza artificiale che è un po' la punta dell'iceberg partirei più dal processo di digitalizzazione dell'Unione Europea soprattutto dal punto di vista normativo che cosa l'Unione Europea ha fatto e fa da io direi 15 anni sicuramente 10 anni a questa parte e come si inserisce come tra l'altro fattore abilitante di tutto quello di cui hanno parlato i miei colleghi perché un miglioramento delle prestazioni sanitarie o di welfare può accadere grazie alla digitalizzazione perché la transizione ecologica può essere resa più efficiente con capacità predittive di manutenzione con efficientamento delle catene logistiche grazie alla digitalizzazione perché una politica estera oramai si fa anche con una politica estera una politica di difesa anche con tecnologie e drone e quant'altro quindi diciamo che il digitale che prima era un argomento un pochino di nicchia ultimamente grazie o a causa anche dei dibattiti sull'intelligenza artificiale che tutti noi stiamo avendo è diventato qualcosa invece di molto presente nella testa dei cittadini e faccio subito una premessa perché mentre sugli altri piani questo governo ha preso posizioni molto forti che ovviamente a noi dell'opposizione non piacciono sul piano della tecnologia e dell'intelligenza artificiale è abbastanza privo di idee privo di idee nel senso che sta implementando quello che chiede il PNRR sulla transizione digitale su questi due pilastri transizione verde e transizione blu quindi su quello della transizione digitale ma non ha preso posizioni forti anche in sede europea sì c'è stato un po' di disastro a un certo punto c'era Urso che diceva una cosa diversa da sottosegretario Butti però globalmente non hanno fatto grandi proposte adesso rivedranno la strategia nazionale sull'intelligenza artificiale però diciamo che è un terreno su cui le forze di opposizioni le forze liberali progressiste possono secondo me influenzare di più che su altre il governo perché è un tema un pochino meno politicizzato quindi è interessante anche parlarne da questo punto di vista perché lì possiamo magari essere un pochino più incisivi l'Unione Europea Filippo lo diceva già si è un po' posta fin dall'inizio fin dalle prime politiche pensiamo al GDPR quindi nel regolamento sulla privacy la revisione della direttiva copyright sul mondo digitale poi tutte le varie normative sulla cyber security o sulla cyber sicurezza dalla protezione delle infrastrutture critiche fino allo sviluppo di standard e certificazioni europee sono tutte norme in cui l'Unione Europea ha fatto molto ha tentato di fare quello che sa fare meglio quindi la parte di protezione protezione dei diritti individuali protezione delle infrastrutture critiche e come dire protezione del modo di vivere europeo come viene definito con un tentativo anche di esportare queste norme qualcuno magari sicuramente ha sentito parlare dell'Unione Europea come potere normativo di esportare le norme anche sul fronte del digitale il tentativo è stato noi diamo lo standard e gli altri per poter interagire con noi per poter scambiare i dati e quant'altro si adegueranno il problema è che non è andata proprio così nel senso che il regolamento sulla privacy sono pochissimi gli stati al mondo che hanno standard equivalenti e persino con gli Stati Uniti è ancora aperto il dibattito se si possono o meno scambiare dati per i livelli diversi di privacy sulla cyber sicurezza in realtà quello che si è arrivato a fare è una sorta di fortezza europea per cui gli standard che abbiamo noi di cyber sicurezza sono standard che permettono o meno l'ingresso di certi prodotti e di certe tecnologie all'interno dei nostri confini quindi quello che doveva essere esportare delle norme in realtà è diventato una sorta di muro tecnologico più o meno apprezzato e non per niente la commissione von der Leyen ha fatto della sovranità digitale uno dei propri cavalli di battaglia per una liberale liberale democratica come me all'inizio ero molto molto scettica e poi in realtà guardando allo scenario geopolitico internazionale Filippo ne ha già ne ha già accennato è chiaro che non possiamo purtroppo io lo dico purtroppo perché secondo me quello sarebbe l'atteggiamento giusto soprattutto nel mondo del digitale pensare che un'apertura e che il mondo aperto di condivisione su cui è nata la rete su cui è nata il digitale continua ad andare così c'è in corso quella che gli esperti chiamano una guerra fredda tecnologica tra Stati Uniti e Cina in cui l'Europa è in mezzo presa in questa morsa da cui non riesce a liberarsi ed è una guerra attenzione che non è solo sull'etere dei dati qualcosa di astratto ma è sulle infrastrutture è sui data center è sui chips che la collega Toia ha già menzionato quindi su su quelle piccole particelle che sono fondamentali per far funzionare qualunque dispositivo ma anche sulle materie prime che servono per far funzionare questi dispositivi e di conseguenza cascata sull'energia come questi data center possono trovare non solo le quantità adatte di energia ma di energia pulita e quindi questa lotta è una lotta ripeto molto concreta molto fisica questa lotta digitale ed è una lotta digitale io non direi che ancora l'abbiamo persa almeno non del tutto secondo me l'abbiamo persa in parte sull'utilizzo dei dati personali pensiamo a tutto il mondo dei social e diciamo quello che le grandi aziende americane oramai hanno come quasi monopolio ma per quanto riguarda invece l'intelligenza artificiale arrivo al tema specifico stiamo lottando perché tutti voi avete sentito parlare di chat GPT di open AI ma in realtà per esempio c'è una azienda francese Mistral che ha sviluppato una tecnologia che è altrettanto forte diciamo di quella di chat GPT e quindi forse non abbiamo del tutto perso il treno qual è il tema? il tema è che l'Unione Europea su questo fronte al momento ha dato delle regole il famoso AI Act di cui tutti parlano molto spesso se ne parla un po' sproposito perché non è che l'AI Act come dire aiuti allo sviluppo della tecnologia dell'intelligenza artificiale al contrario mette dei paletti dei paletti che derivano dai valori dell'Unione Europea per cui certi utilizzi dell'intelligenza artificiale è proprio una lista cioè dove puoi utilizzare l'intelligenza artificiale in questo caso polizia riconoscimento facciale questioni legate all'immigrazione no in questo caso sì ma attenzione è un uso a rischio e quindi ci vogliono controlli trasparenza certificazioni e così via in altri casi invece libero a te di utilizzarlo quindi dal punto di vista dell'industria e io prima di essere parlamentare ho lavorato dieci anni nell'industria tech quindi l'ho vissuto dall'altra parte dalla parte di chi questi regolamenti li deve poi applicare implementare è stato visto con molto scetticismo ma non per diciamo la lista in sé di usi e abusi e dove non si può utilizzare l'intelligenza artificiale quanto perché manca l'altro pilastro qual è l'altro pilastro? l'altro pilastro è quello dell'incentivare e del sviluppare queste tecnologie perché come hanno detto tutti gli altri relatori nei loro vari ambiti un conto è normale poi un conto è metterci dietro le risorse il coordinamento la politica industriale comune per riuscire ad essere presenti in quel campo in tutti i campi di cui si è parlato ma anche nel campo del digitale perché ancora abbiamo figuriamoci in un mondo come il digitale che è diceva prima l'inquinamento non conosce confini neanche i dati in teoria conoscerebbero confini eppure noi stiamo cercando di metterli perché ciascuno stato membro si sta facendo la sua piccola strategia sull'intelligenza artificiale la sua strategia industriale sulle materie critiche la sua strategia sul computer quantistico questo non ha senso il problema è come diceva Patrizia Toia noi chiediamo all'Europa di essere più presente sull'incentivare la politica industriale legata a tutto il mondo dell'innovazione ma senza che ci siano le risorse e molto spesso neanche le competenze per farlo e quindi è un approccio all'innovazione a questa guerra fredda tecnologica che è zoppo c'ha la gamba normativa benissimo siamo tutti contenti di essere protetti da un utilizzo della tecnologia come quello che avviene in Cina in cui le persone sono spiate giudicate e come dire la tecnologia viene usata per controllo sociale il sistema di social credit system per cui vengono dati dei punti se vi comportate bene o male come cittadini grazie al monitoraggio tecnologico ecco abbiamo evitato per fortuna quella deriva lì ma non abbiamo ancora dico ancora perché magari nel prossimo futuro si arriverà a farlo non siamo riusciti a compensare e a complementare con questi incentivi politica industriale e fondamentalmente risorse europee una strategia europea quindi se la competizione tra stati secondo me fa bene sono un pochino più positiva rispetto al fatto che non ci voglia una omogeneizzazione totale che la competizione se fatta ovviamente con regole giuste e con punti di partenza simili è corretta con delle sfide grandi e globali come quelle dell'utilizzo dello sviluppo di tecnologie come l'intelligenza artificiale ma non solo secondo me dovremmo davvero farci una domanda se la sovranità digitale europea significa solo ergere barriere normative più o meno protezioniste o bisogna cambiare passo e dire veramente questo noi vogliamo fare nel mondo nel campo dell'innovazione e metterci dietro anche le risorse e la volontà politica corretta questo governo non sarà sicuramente quello che aiuterà a fare questo cambio di passo perché ripeto non è interessato e non capisce secondo me molto quanto importante sia questo tema quindi vuol dire io cerco di vederlo in maniera positiva che le forze di opposizione hanno più campo e torno a quello che dicevo prima anche per fare una campagna elettorale che racconti ai cittadini questi temi in maniera concreta e che faccia delle proposte a cui magari questo governo non dirà sì ma non dirà neanche no che è già qualcosa grazie grazie Giulia tra l'altro veniva in mente proprio oltre agli incentivi oltre alla regolamentazione anche le aggregazioni industriali che abbiano la dimensione di competere su quella scala io se siete d'accordo scuserei se nei prossimi 10-15 minuti alcuni relatori ci dovranno lasciare aprirei però uno spazio ad alcune domande e partirei diciamo dagli interventi obbligatori tra virgolette o che mi permetto io di caldeggiare intanto volevo chiedere a Michele Salvati se voleva portarci una sua riflessione sui temi che abbiamo discusso questa mattina e sicuramente anche a Marco Leonardi e a chi vuole poi intervenire raccogliamo so appunto c'è anche Paolo Lorenzetti se è ancora in sala insomma mi segno io chi alza le mani ok Michele aspetta aspetta allora no Patrizia fanno tu dai che riconosci bene che voleva segnalare alcune pubblicazioni non mi sembra che sia una cosa così brutta uno è di Luca Giaie amico mio e di Fassino che ha fatto un bellissimo libro molto molto leggibile facile e l'altro è Gianni Borsa a scegliere l'Europa ecco solo perché magari qualcuno vuole approfondire ho dato due grazie Patrizia benissimo grazie io spero che di questa straordinaria riunione sarà dato voglio dire sia stata registrata in qualche spero che questa riunione sia stata registrata è che è di seguito perfetto quindi non è secondo me stata straordinariamente utile ho preso moltissime cose su due punti vorrei vorrei insistere il primo è sentendo diciamo Maurizio Ferrera e diciamo quel progetto dell'Unione Europea che cerca di stabilire su tutti i temi di rilevanza sociale una sorta di non dico una gratuatoria ma voglio dire sulla base di parametri noti e fissi e ben considerati e vedere quali sono i paesi che maggiormente si attengono a questi eccetera venuti in mente naturalmente che è la stessa cosa che noi avremmo dovuto fare per le nostre regioni a livello nazionale è la stessa cosa e che non abbiamo fatto e continuiamo a non fare e quali sono diciamo gli ostacoli normativi perché la politica regionale possa basarsi su una valutazione di questo tipo che null'altro se non la continuazione di quella europea e l'articolazione di quella europea a livello a livello questa è una prima considerazione che volevo fare questo naturalmente comporta diciamo questioni istituzionali di grande importanza come il senato delle regioni e un insieme di istituzioni che dovrebbero essere modificate e cambiate la seconda osservazione riguarda invece la golden rule e di nuovo è molto piccola ma io auspico diciamo che un'idea di golden rule diciamo che la domanda che viene fuori voglio dire dal governo o comunque anche e anche diciamo dall'opposizione di avere una golden rule che ci consenta di escludere diciamo dei vincoli europei e dalla considerazione del disavanzo e del deficit no un insieme di investimenti io spero che una una golden rule all'italiana o alla nazionale cioè non passi assolutamente questo è il mio e che praticamente che invece la golden rule perché se non passa perché se non eh eh ah l'idea è quella quello è molto semplicemente è l'idea che alcune spese si immagina spese di investimento significative eccetera vengono esclusi dal calcolo dell'isolanza del deficit questo è un po' quella cosa benissimo spero che questa cosa non venga concessa l'Italia e nessun altro paese e che questo invece proprio perché una cosa di questo genere imporrebbe cioè creerebbe una pressione enorme perché una perché questa non dico la golden rule di per sé ma diciamo di questa cosa si faccia carico l'Unione Europea rappresendeva una spinta enorme verso diciamo verso l'Unione questo è il è il tema perché se non si fa in Italia e la cosa eh naturalmente genera un insieme di disfunzioni palesi voglio dire non si riescono a fare quell'enorme quantità di investimenti che da ultimo Draghi a parte Draghi vuol dire tanti altri auspicano se non si riesce a fare questi questi devono essere fatti la pressione perché vengano fatti diventerà così forte che si rivolgerà necessariamente all'Unione Europea almeno così spero riferitiamo su questo problema c'è un problema particolare ma è un problema di straordinaria importanza e solo questo voglio dire non voglio portarvi a tempo l'altro grazie grazie Michele Marco Marco Leonardi ciao metto qua che vedo meglio io volevo dire una cosa che non credo non è stata sottolineata abbastanza credo è un punto in comune tra tutti gli interventi molto interessanti e molto belli un punto in comune tra il discorso che ha fatto Fassino e Morando all'inizio su l'esigenza e l'urgenza probabilmente del purtroppo l'urgenza che è sempre quello che ha mosso la commissione la politica europea ma anche la politica italiana molto spesso l'urgenza e la necessità di difesa dell'Unione la politica estera della politica di difesa un punto in comune con quello che ha detto Patrizia Toia sulle politiche industriali della transizione ma non solo tutto quello che sta scrivendo Mario Draghi e il suo rapporto è probabilmente carta straccia se non c'è una politica di finanziamento e di debito comune e quindi non è perfettamente inutile parlare di politiche industriali comuni se poi dopo non c'è il mezzo per finanziarle una cosa comune un punto in comune quello che ha detto Maurizio Ferrera sure è debito comune è un pezzo del bilancio europeo che non può probabilmente essere rifinanziato in maniera facile se non si espande il bilancio comune o se non si prevede un meccanismo di debito comune e quello che ha detto anche Giulia Pastorella che è andata via sulle politiche tecnologiche è un po' uguale a quello che ha detto Padrizio Toio sulle politiche industriali in generale in ultimo quello che ha detto Michele Salvati è molto giusto cioè invece di insistere sul bilancio comune e sul debito comune oppure su debiti nazionali con tassi europei che vuol dire garanzia comune sui debiti nazionali ecco invece quello che ha fatto il governo italiano secondo me in maniera errata ha insistito non solo sulla proroga era perfettamente inutile avere una proroga della sospensione beh sarebbe stato utile ovviamente al governo perché poteva fare quello che ha fatto quello che lo voleva sul bilancio pubblico per un altro anno ma ha insistito sulle cose sbagliate ha insistito un'altra volta sulla golden rule cioè il fatto di scorporare quella cosa che dicevamo anni fa ma che oggi è non solo improbabile visto che ci hanno detto no per tanti anni ma anche inutile perché io mi chiedo ma scusate ma se anche l'Italia raggranelasse qualche miliardo in più uno due miliardi in più di debito possibilità di fare due uno due miliardi in più di debito all'anno ma che cosa ci paghi un missile in più e che te ne fai qualche qualche protezione di qualche fabbrica per la transizione ecologica o di qualcuna fabbrica che sta andando a carte 48 in più ma alla fine che cosa te ne fai non sviluppi nulla della politica industriale comune della politica di difesa con un miliardo o due in più di debito italiano quindi tutto questo Shur che ha finanziato 27 miliardi 27 miliardi su 104 credo che era un debito totale Shur quindi noi abbiamo sempre avuto sia sul PNRR sia su Shur che sono i due esempi più importanti di questo debito comune abbiamo avuto parti molto più importanti di tutti gli altri sia su Shur che sul PNRR e nessuno lo sa i cittadini tendenzialmente non lo sanno né di Shur che tendenzialmente non sanno neanche che esista e del PNRR se esiste non sanno esattamente che cosa sta pagando e come cosa gliene viene in tasca quindi per dire tutto questo dire che la parte di insistenza sulla Golden Rule cioè di poter pagare investimenti nazionali su debito nazionale è perfettamente inutile oggi oggi quello il punto fondamentale è riuscire a scardinare la resistenza tedesca in particolare dei paesi del nord su nuovi finanziamenti a debito comune nuove PNRR vogliamo dire se vuoi fare il minima siccome hai aperto la porta del PNRR hai aperto la porta dello Shur inizia con quello perché poi abbiamo visto che la Commissione e l'Europa procede per piccoli passi difficilmente fa delle grandi rivoluzioni anche perché bisogna cambiare i trattati probabilmente per fare le rivoluzioni per fare nuove PNRR non bisogna cambiare i trattati non l'abbiamo fatto prima non lo dobbiamo fare dopo per fare questo però la resistenza tedesca è una resistenza forte perché voi dite giustamente l'Italia è sbagliato il patto di stabilità adesso si astiene è un disastro perché ovviamente vai contro il tuo commissario gentile vai contro la Calvigno la spagnola socialista che l'ha trattato vai contro la presidenza cioè vai contro tutti praticamente per dire che sei contro una cosa che hai fatto tu che hai proposto tu mi sembra un po' difficile da sostenere comunque per scardinare però non siamo gli unici responsabili perché anche sono stati tedeschi sono stati tedeschi che hanno voluto cambiare la proposta giusta della commissione quindi la resistenza forte sta sempre lì non dimentichiamoci ecco secondo me bisogna riprendere una vecchia idea e aggiornarla però adesso è il momento giusto perché sai le idee hanno sempre un loro tempo giusto e secondo me la vecchia idea giusta era guardate l'Italia si impegna anche in maniera meccanica ridurre il debito pubblico il debito italiano che è quella la preoccupazione degli europei dei tedeschi in particolare è che l'Italia golden rule non golden rule patto di stabilità nuovo quello vecchio comunque trova sempre il modo per aumentare il debito pubblico e quindi mettere in difficoltà gli elettorati ma anche tecnicamente le finanze pubbliche europee se noi facciamo lo scambio meccanismo rigido di rientro del debito nazionale a fronte di un equivalente un euro in meno di debito nazionale un euro in più di debito europeo a quel punto le due cose non finanziano la stessa cosa con un euro in più di debito nazionale ci puoi finanziare nulla della difesa della politica industriale nulla di non serve a nulla il debito italiano in più l'equivalente debito europeo in più invece potenzialmente serve molto di più quindi secondo me questa è la proposta giusta e siamo noi che dobbiamo portarla perché la diffidenza degli europei è verso di noi il pericolo delle finanze pubbliche europee è il debito pubblico italiano se non siamo noi a proporla questa cosa possono proporcela agli altri ma è inutile perché ovviamente il pericolo siamo noi l'anello debole siamo noi è il nostro debito pubblico il problema vero quindi la proposta deve venire da noi grazie grazie Marco ringraziamo Patrizia Toia chiedo di avvicinarsi intanto a Paolo Lorenzetti il movimento federalista poi c'è Marco Monti Carmelo Marazzia chi deve intervenire si avvicini chiedo solo ecco di riuscire a stare magari nei tre minuti così raccogliamo un po' di domande allora prego Paolo io non ho chiesto di intervenire quindi ringrazio ringrazio Filippo Barberis che è stato lui a chiederlo niente io non ho da aggiungere nulla nella sostanza è stato ottime relazioni che sottoscrivo tutte e ho imparato anche non poco e quindi ho apprezzato molto innanzitutto un ringraziamento e un apprezzamento ai promotori e a tutti i relatori che sono intervenuti giusto un punto così di urgenza per unire i vari punti che sono stati toccati l'Europa ha bisogno della difesa e della sicurezza di una politica estera di una politica economica che comporta l'energia le tecnologie eccetera eccetera un ruolo nel mondo se no verrà del tutto marginalizzata impoverita e farà la fine del topo per fare questo occorre cambiare il suo modo di funzionare la sua legittimità democratica il suo assetto istituzionale di potere politico rispetto a come oggi ha detto giustamente Morando è una questione di urgenza fatelo cambiando i trattati fatelo facendo dei nuovi trattati magari tra alcuni stati non tutti i 27 fate violando i trattati o aggirando i trattati però fatelo e non fatelo fra vent'anni perché l'Europa e gli europei non hanno vent'anni davanti per queste cose ora qui c'è e concludo una cosa sul terreno che è l'unica in questo momento sul terreno nel senso che queste cose purtroppo non si riescono a fare perché occorrerebbe una fortissima volontà politica anche di strappo rispetto ai paesi che non vorrebbero avanzare questo in questo momento sembra mancante però c'è una cosa sul terreno è stata citata durante le relazioni l'ha detto Patrizia Toia la riprendo il Parlamento europeo il 22 novembre scorso ha approvato un progetto di riforma dei trattati che è sufficientemente avanzato almeno per cominciare e ha proposto di avviare la procedura di revisione dei trattati ai governi i governi possono decidere questa cosa a maggioranza semplice questa cosa poteva essere fatta già nel dicembre scorso sotto la presidenza spagnola la Germania ha chiesto di rinviare adesso c'è il vertice europeo il 21-22 marzo poi ce ne sarà un altro sempre sotto presidenza belga a giugno poi comincia la presidenza ungherese ed è un'altra storia però l'idea è quella che l'Italia non si metta di traverso ovviamente che il Consiglio europeo decida di avviare dopo l'elezione europea ovviamente la procedura di revisione dei trattati la convocazione di una convenzione per questo è una procedura difficile è tutto difficile è tutto in salita ma è l'unica strada in questo momento concreta che si può percorrere ed è l'unico progetto che è stato messo sul tavolo che non è solo nelle nostre menti ma che è effettivamente sul tavolo quindi questo dovrebbe essere uno dei temi della campagna elettorale voglio ricordare anche merito di Filippo Barberis e di altri consiglieri si sta cercando di approvare in Consiglio Comunale a Milano esatto prima del vertice del 21-22 marzo un ordine del giorno in cui appunto si sollecita il governo italiano e il Parlamento italiano ai prossimi vertici europei di marzo e di giugno di fare la propria parte naturalmente nessuno pretende che Giorgia Meloni sia De Gasperi nemmeno Andreotti però almeno ripeto che non si metta di traverso rispetto a questa possibile strada possibile iniziativa grazie ancora io faccio un'osservazione brevissima e molto pratica che mi deriva dalla mia esperienza io faccio il volontario presso il municipio 5 per cercare di trovare lavoro alle persone che sono maggiormente in difficoltà cosa viene fuori abbiamo trattato 160 persone e qual è la categoria che ha più difficoltà a trovare lavoro le donne con figli l'Italia è il paese che non riesce a garantire alle donne con figli non riesce a garantire che i loro figli siano o all'asilo o al nido o anche alle elementari siano curati fino a un'ora che permetta a queste donne di lavorare normalmente tutte queste donne dicono noi possiamo lavorare solo dalle 9 alle 15 guardate questo è una cosa che dobbiamo risolvere io ho una cara amica che insegna in Francia e in Francia questo non accade perché in Francia lei ha tre figli riescono a curargli tutti e tre i figli noi abbiamo fatto poco quando eravamo il governo su questo questo è una se non sblocchiamo questo l'occupazione femminile in Italia rimarrà sempre la peggiore a livello europeo buongiorno a tutti sono Giulio ne ho iscritto da dieci mesi al PD e allora ho visto che ci sono due emergenze diciamo una ha detto Morandi che è la sicurezza nazionale l'altra è la questione elezioni europee per poter cambiare la politica della comunità europea allora io sono un attivista di base siccome abbiamo bisogno dei voti delle persone e le persone non sono preparate politicamente infatti Fassino ha detto che si ha bisogno del salto di qualità allora la domanda è il salto di qualità di chi dei nostri portavoce o il salto della qualità del semplice scritto attivista di territorio siccome si sta facendo in questo momento la riorganizzazione e allora ho visto che praticamente l'attivista di territorio non conta niente e circoli non contano niente perché quelli che scelgono sono quelli che sono i delegati infatti questo statuto che è stato fatto del PD immagino il signor Fassino sono qui persone non consente la partecipazione degli attivisti municipio 6 io appartengo a municipio 6 municipio 3 per quanto 5 circoli questa settimana 15 giorni fa è stato scelto il coordinatore provinciale in 8 municipio e 6 no e perché perché non si sono messi di accordi e segretari e allora fino adesso non c'è e allora dico io perché non intervengono gli attivisti a votare va bene e questa è un'idea l'altro era quanto riguarda il signor Morando che cosa possiamo dirle alle persone che devono votare adesso le elezioni europee non agli attivisti sino alle persone che quelli che non votano noi non possiamo andarle a dire che dobbiamo votare la politica della melone qual è dell'invio delle armi Morando ha detto che la comunità europea è stata agredita di una potenza ma io non mi risulta che la Ucrania sia parte della comunità europea non mi risulta in più che la comunità europea dovrebbe essere tra Moscù e gli Stati Uniti a parte neutrale mi sembra che questa è l'intenzione della comunità europea invece no la OTAN gli americani decidono prima di attaccare e adesso quelli che pagano la guerra chi sono noi non tanto il governo i cittadini e allora per quello io dicevo che la proposta dovrebbe essere non all'invio delle armi e sostanto a una questione diplomatica che si deve risolvere non so e voti penso che lo possiamo prendere grazie grazie Carmelo sì io volevo portare una piccola istanza allora noi abbiamo sentito un po' diversa da quella di queste esposte abbiamo sentito una come al solito nella migliore tradizione riformista una serie di proposte di policies cioè cose che sono quasi pronte per essere messo in un programma elettorale e proposta ai cittadini parlando ai cittadini ecco fra l'altro abbiamo sentito delle cose che riguardano i programmi le politiche da fare e le cose che abbiamo acquisito e qui viene un come Unione Europea e qui viene un meta argomento che è quello che la situazione politica attuale internazionale mette un pericolo su quelle cose mette l'Europa in pericolo su queste cose che abbiamo acquisito e sulla possibilità di fare le politiche secondo me questo elemento dovrebbe entrare nella campagna elettorale cioè la possibilità le cose che abbiamo fatto le cose che possiamo fare e il pericolo che corrono queste queste cose e qui viene la mia istanza che è quella di domandarsi qual è il soggetto politico che può portare avanti questa la mia proposta è quella di rivolgendosi a tutta l'opposizione naturalmente quella cui vale la pena rivolgersi cioè quella presente qui insieme delle forze quella di come dire che da questi tavoli di questo genere vengono fuori io la chiamerei una supplica alle forze di opposizione per mettere queste politiche all'interno di queste proposte di policies all'interno della campagna elettorale cioè una presa di posizione esplicita di proposta poi discutete dei problemi del fascismo che è fascista che è meno fascista eccetera però per cortesia mettete questi temi all'interno della campagna elettorale grazie grazie carmelo il mio nome è cattaneo dunque la domanda è per lei Fassino la domanda è questa dunque quale obiettivo strategico quindi che non copra i prossimi 18 mesi ma copra tendenzialmente i prossimi 15 anni la unione europea e in particolare la germania la francia l'italia la spagna si debbono dare nei confronti di chi della federazione russa perché la domanda perché 18 mesi fa quindi non subito dopo l'aggressione ma dopo che abbiamo visto la buona reazione del popolo ucraino e dell'esercito ci siamo dati un obiettivo strategico che oggi non funziona più era grosso modo così detto in modo brutale noi ci mettiamo i soldi i sistemi d'arma e le munizioni tre cose voi ci mettete gli uomini e la distruzione del territorio l'obiettivo era l'indebolimento serio delle capacità militari della federazione russa bene funziona ancora questo scambio sui soldi è inutile parlare lo sappiamo un po' più complessa è la questione dei sistemi d'arma cioè non basta avere i soldi se abbiamo 15 sistemi d'arma diversi che forniamo agli ucraini la logistica ucraina è terribile impossibile da gestire poi c'è quella cosa che è diventata nota a tutti non abbiamo le munizioni cioè siamo andati a prenderle in Corea del Sud non che Putin stia meglio è andato a prenderle in Corea del Nord siamo andati a prenderle in Giappone i 155 gli obici i 155 eccetera vabbè dal punto di vista ucraino l'altra parte dello scambio è gli uomini sono pochi e i pochi che ci sono sono stanchi perché un esercito che regge in quale condizione lì ha bisogno di ricambio e non c'è l'altra questione è la distruzione del territorio che ha raggiunto i limiti notevoli bene allora se uno fa la domanda sente la risposta ma va anche la propria la mia è che nei confronti della federazione russa mettendoci bene in guardia in modo tale da seguire insieme ai tedeschi un serio riarmo coordinato e coordinato vuol dire non solo soldi e non solo tempi ma vuol dire anche coordinati fra i vari sistemi d'arma fra la logistica con la cosa che mi accennava prima un collega che è lì dietro a Fassino di cui adesso mi scordo il nome bene mettendoci a fare un serio riarmo insieme con i tedeschi noi dobbiamo però sapendo che questo provoca minimo minimo cinque o sei anni di necessità noi dobbiamo arrivare ad un appeasement con la federazione russa sapendo anche che è ben vero che la minaccia c'è c'è ma al momento le condizioni dell'esercito russo e l'avete visto per prendere Avdiv che ci hanno messo quattro mesi da roba fuori dal mondo bene non sono tali da rendere imminente un tentativo della federazione russa di Vladimir Vladimir Putin chiamiamolo così perché ci ricordiamo che è slavo di prendere anche per intenderci i paesi baltici non sono in condizioni però noi ci dobbiamo dare da fare coordinati con i tedeschi con i francesi certamente anche oltre che sulla politica estera sulla politica militare grazie grazie io chiederei a Piero Fassino e anche Enrico Morando se vuole naturalmente se volete fare qualche considerazione rispetto alle domande e alle sollecitazioni che sono arrivate dalla platea grazie Piero breve poi devo un altro impegno dunque due cose volevo affrontare una è emersa nella domanda l'ultima e poi una seconda che non è emersa ma che secondo me è altrettanto importante il rapporto con la Russia allora noi non possiamo prescindere dal fatto che siamo di fronte siamo stati e siamo di fronte a una decisione russa di aggressione all'Ucraina perché ogni ragionamento che si debba fare i rapporti con la Russia non può prescindere dal fatto che siamo di fronte a una guerra con un atto di aggressione e badate non solo un atto di aggressione una cosa che secondo me non è stata sufficientemente considerata è che dopo aver occupato una parte dell'Ucraina Putin ha deciso la annessione di quella parte l'annessione è diversa dall'occupazione perché l'occupazione tu occupi il territorio di un altro paese poi sulla base di una trattativa di un accordo di un accordo puoi sempre ritirarti ma se annetti quella ipotesi non c'è più perché tu dici questa roba qui è mia la è netto la integro totalmente nella federazione russa come è avvenuto adesso quando ci saranno le elezioni presidenziali in Russia gli abitanti delle regioni annesse voteranno per il presidente russo perché sono cittadini russi e tutti gli effetti quelle regioni sono state totalmente integrate nella Russia il che significa che il che significa che non ha nessuna intenzione di restituirla e ovviamente i dirigenti ucraini pongono la questione ma voi ci vedete perché c'è una sollecitazione continua a dire siccome sul piano militare la condizione è di stallo perché è così questi due anni noi abbiamo avuto una fase di invasione russa poi una fase di controffensiva Ucraina adesso siamo di fronte a una fase di controffensiva russa ma insomma siamo là e nessuno riesce per ora a prevalere militarmente c'è una forte sollecitazione a dire dopo due anni distrazioni morti devastazioni come fa sempre una guerra nessuno vince si apre un negoziato sì ma qual è l'oggetto del negoziato io da questo lo pongo da tempo non ho mai una risposta perché per i russi l'oggetto del negoziato è un accordo alla fine nel quale i territori che hanno se li tiene e per gli ucraini l'oggetto del negoziato è che invece quei territori che sono ucraini tornino all'Ucraina siccome le posizioni sono del tutto opposte e allo Stato non mi pare di vedere in nessuno dei due una come dire mutamento di posizione noi siamo di fronte a uno stallo militare ma siamo anche di fronte a uno stallo politico e in questa situazione dice ma allora perché continuiamo a sostenerli militarmente dandogli le munizioni perché se vuoi aprire cosa che oggi non c'è ma se vuoi aprire uno spazio a un possibile negoziato c'è solo se i rapporti di forza sul campo non cambiano è del tutto evidente perché se i rapporti di forza sul campo cambiano nel senso che l'Ucraina non è in grado di difendersi e la Russia affonde il coltello come nel burro tu non hai dopo nessuna trattativa nessun negoziato parliamoci chiaro quindi questa è la delicatezza della situazione sto descrivendo la situazione non sto dicendo che vada bene così perché non ci si deve rassegnare mai a una guerra dobbiamo lavorare perché si riesca a arrivare a superare a fermare le aree a superare la guerra e a cercare di mettere in campo una soluzione politica ma la soluzione politica è complicata per la ragione che ho detto perché l'oggetto di un eventuale accordo non c'è perché le due parti rivendicano una posizione opposta a quella dell'altra che non è facilmente mediabile e non ce la caviamo neanche dicendo come ogni tanto sento vabbè ma siccome i russi sono molto forti hanno un potenziale di fuoco certamente superiore a quello dell'Ucraina hanno un potenziale di uomini superiore a quello dell'Ucraina l'Ucraina faccia buon viso cattivo gioco smettiamola accetti di perdere dei territori e buonanotte è un po' facile dirlo qui in Italia bisogna spiegarlo agli ucraini questa roba qua e io per il lavoro che faccio rapporti continui con l'Ucraina di tutti i partiti politici dalla destra alla sinistra non ce n'è uno che sia disposto andare a un tavolo della trattativa a dire firmare un accordo in cui in partenza perde un pezzo del suo paese è complicato per questo bisogna avere chiara la complessità sul fatto che bisogna rafforzare un sistema di difesa europeo con un'intesa forte soprattutto tra i principali paesi Italia Francia Germania io sono totalmente d'accordo è un processo che è già stato avviato perché il sistema di sicurezza europeo è costruito con un processo di crescente armonizzazione e integrazione tra i sistemi di difesa in questo momento sono in corso 61 progetti specifici dalla logistica agli armamenti alle infrastrutture tutte le cose di armonizzazione di unificazione tra l'altro di questi 61 progetti 33 coinvolgono anche il sistema di sicurezza e di difesa italiana quindi è in corso una cosa che non è semplice perché è facile dire ogni paese costruisce un coro armato facciamone uno europeo e buonanotte è giusto passare da quello a quell'altro impone come dire una complessità non solo di volontà politica anche tecnologica industriale eccetera eccetera quindi è un processo che va costruito e lo si sta costruendo la cosa che qui non è stata non è venuta fuori che volevo affrontare prima di lasciare è che quando noi diciamo processo serve un salto di integrazione dell'unione europea come ho detto stamattina per andare al di là dell'essere nella metà del guado oltre a tutte le cose che condivido assolutamente che hanno detto Morandola Patrizia Ferrera eccetera c'è un tema che non è emerso ed è il tema dell'allargamento dell'unione europea e cioè dell'integrazione nell'unione europea di paesi che allo stato attuale non sono membri dell'unione europea sulla base di tanti argomenti ma ve ne dico uno che fa secondo me rende chiaro perché noi ci vantiamo e giustamente è uno dei titoli di merito dell'unione europea che in 80 anni dal 1945 ad oggi nell'unione europea una guerra non c'è stata e anzi l'unione europea la prima grande ragione per cui è nata era quella di evitare che popoli e nazioni europei che avevano insanguinato il continente per secoli con le loro guerre non lo facessero più e non l'hanno fatto più però attenzione che noi alle porte di questa unione europea che non ha avuto guerra le guerre le abbiamo avute i Balcani il Caucaso e oggi l'Ucraina il che vuol dire che non siamo sufficientemente sicuri solo se non c'è guerra tra di noi perché se c'è guerra alle nostre porte come dimostra la vicenda ucraina ma come ha visto mi è stato prima i Balcani se sto parlando adesso dei territori europei poi naturalmente allargando il Mediterraneo stesso ragionamento ma più complicato non puoi pensare di integrare la Libia nell'Unione Europea ovviamente ma invece questi paesi che stanno ai confini dell'Unione questi che vogliono diventare membri dell'Unione noi abbiamo bisogno di integrarli e di integrarli il più rapidamente possibile perché finché sono fuori sono un fattore di instabilità e di insicurezza per loro e per noi e su questo punto l'Unione Europea è drammaticamente in ritardo perché la guerra nei Balcani è finita nel dicembre del 1995 con l'accordo di Dayton noi dicemmo allora ai paesi balcanici che la loro prospettiva di stabilità sarebbe stata l'integrazione nelle istituzioni euroatlantiche Nato e Unione Europea siamo nel 2024 il prossimo anno sono 30 anni che gli diciamo questo senza portarlo in porto la strategia di allargamento annunciata nel 1995 fu poi formalizzata nel 2003 Consiglio Europeo di Salonico 2003 2024 sono passati 21 anni e sapete qual è l'esito di questo lungo periodo in cui gli abbiamo promesso sempre l'integrazione senza mai farla tre dividendi politici tutti negativi primo abbiamo aperto le porte ai Balcani ad altri attori la Russia la Cina gli Emirati Arabi la Turchia no? secondo abbiamo prodotto frustrazione in quei paesi perché quando tu prometti una cosa che non avviene mai produci frustrazione e terzo siccome quei paesi ed è giusto insistere su questo devono fare delle riforme per armonizzare il loro standard agli standard europei di fronte a un'Unione Europea che rallentava sempre loro hanno rallentato anche questi processi di riforme abbiamo dato un alibi quindi non abbiamo portato a casa nessun risultato dal metterci 30 anni a integrare questi paesi che in tutto vi segnalo in tutto fanno più o meno 20 milioni di abitanti non 200 o 2.000 perché la Slovenia ha un milione e mezzo di abitanti la Croazia che è già membro dell'Unione Europea la Croazia che è stata intragata ne ha 3 e mezzo il Kosovo ha meno di un milione di abitanti la Serbia che è il più grande ha 12 milioni di abitanti e via di questo passo Macedonia siamo sull'ordine di 3-4 milioni di abitanti cioè alla fine quando fai tutto e un'Unione Europea di 500 milioni di persone ha un problema a integrare un'area di 20 milioni di abitanti è chiaro che non è così quindi la realtà è che abbiamo tardato tanto con un atteggiamento inaccettabile cioè sì ma siccome i Balcani sono una zona complicata di grane caratterizzata nei secoli da guerra al punto che si è prognata addirittura una parola balcanizzazione per descrivere una situazione di continua conflittualità non andiamo a metterci lì non ti vai a mettere e la guerra ce l'hai alle porte di casa li stabilizzi solo se li porti dentro e lo stesso ragionamento vale per il Caucaso e lo stesso ragionamento vale per l'Ucraina tant'è vero che noi di fronte alla guerra russo-ucraina abbiamo deciso di aprire le porte dell'Ucraina dell'Unione Europea perché quello è un elemento fondamentale non solo di sostegno politico ma di stabilizzazione quindi tra le cose finisco che l'Unione Europea deve fare più rapidamente per mettersi nelle condizioni appunto di essere come abbiamo discusso tutta la mattina quell'attore globale che sia un protagonista nel mondo globale e c'è anche di completare la dimensione di integrazione del continente del continente europeo poi c'è il tema che tu hai evocato un attimo cioè come l'Europa ha una politica mediterranea e non solo mediterranea anche questo ci metto un minuto ci sono due modalità per guardare al Mediterraneo una modalità è pensare che il Mediterraneo è il confine meridionale dell'Europa cioè il Mediterraneo sta fuori di noi quando dici che è un confine quello che sta di là del confine è fuori oppure c'è un altro modo che secondo me è l'unico ragionevole devi pensare il Mediterraneo come la regione sud dell'Europa cioè sta dentro uno spazio che ci riguarda basterebbe pensare al flusso migratore e quindi come tu hai una politica per il Mediterraneo e per l'Africa stamattina ho detto un dato ritorno su questo oggi in Africa vive un miliardo 300 milioni di persone di cui a fine anno a fine secolo diventeranno tra 3,8 e 4 miliardi il 40% della popolazione del mondo di allora che sarà di 11 miliardi nessuno può pensare ragionevolmente che il destino di 4 miliardi lo risolvono le migrazioni perché è impossibile che 4 miliardi migrino allora o ti dai una politica per il continente africano oppure non ti lamentare se poi subirai soltanto le conseguenze negative dell'ausenza di una politica è chiaro e guardate ci sono due cose finisco davvero che colpiscono se noi oggi facciamo la somma aritmetica degli investimenti che i paesi europei compresa la Gran Bretagna hanno in Africa la somma aritmetica è superiore agli investimenti cinesi ma è una somma aritmetica non è un progetto politico comune ogni paese va e fa quello che ritiene se tu non ti dai una strategia europea non hai capacità di competizione no? e questo è un punto fondamentale tu devi darti una strategia adesso il governo Meloni ha lanciato il piano Mattei se l'idea non è sbagliata semplicemente non c'è un contenuto non c'è un programma non c'è un soldo e quindi come in tante cose fa della propaganda non c'è un soldo non c'è un progetto nella legge di bilancio c'è scritto che per ciò che riguarda il piano Mattei se ne riparlerà nel 2025 e quindi è propaganda come tante cose che questo governo fa ma devi avere una politica per il continente africano perché è condizione e della seconda nazione poi finisco da avere noi possiamo l'Europa possedere molto di più di quello che gli dà la Cina perché la Cina all'Africa che cosa gli dà gli dà infrastrutture gli costruisce i porti le dighe le case in cambio prende materie prime eccetera ma non gli dà un sistema di welfare non ce n'è anche in Cina 400 milioni di abitanti cinesi non hanno un sistema previdenziale vi segnalo qui e in Africa tu hai tutto un problema di empowerment femminile formazione dei giovani costruzione di reti sociali l'Europa ha l'esperienza per contribuire a farlo e secondo se tu vuoi consolidare la democrazia in Africa non portandola con le armi che è stupido ma favorendo un processo di costruzione democratica l'Europa è un continente democratico che può aiutare non la Cina che non è un paese democratico quindi noi possiamo dargli molto di più ma bisogna decidere di volerglielo dare grazie della vostra attenzione grazie grazie ancora a Piedro Fassino e a tutti i relatori e a tutti voi che pazientemente avete seguito i lavori di questa mattina ricordo che per chi vuole fermarsi a mangiare qualcosa c'è qua il ristorante all'interno del circolo dove potete andare grazie ancora grazie